Ho resto in chat. Io 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 resto in chat. Eccoci! Adesso segui. Io non mi vedo, ma ho il mio programma. Silenzio. Questa sera, a partire dalle ore 22, sulla pagina DJK Association e sul gruppo Quelli che Pescaresi, lo metteremo in diretta streaming. In video chart room. Io resto in chat. Ti aspettiamo, non mancare. Io resto in chat. 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 Bene, bene, bene. Benvenuti. Una buona serata a tutti. Questa serata in particolare l'abbiamo ribattezzata la febbre, la non febbre, cioè del sabato sera. E una buona serata a tutti quanti voi da Pino Morelli. Noi siamo qui, ma anche con Giovanni D'Addario, Alessio Consorte, Roberto Rantucci, Mirco D'Anastasio. C'è anche quasi pronto Bruno Barteloni. Poi abbiamo Fiorella Gentile e Cristian Janzante. Solo per il momento. E naturalmente avremo tantissime persone con cui stare insieme, ma soprattutto abbiamo voi. Perché? Perché noi vi facciamo un'offerta che non potete rifiutare. Dove andate? Che volete fare? Volete vedere l'ennesimo film? Volete gustarvi l'ennesima telenovela? Vabbè, ormai non ci sono più. Ma che volete fare? Dai, su. Chiudete questo televisore. Come diceva la vecchia pubblicità di TVAQ, non butta via il tuo vecchio frigorifero, ma butta anche il tuo televisorone da 99 pollici, come le cannelle, e rimanete con noi, mi raccomando, perché lo potete fare telefonandoci, lo potete fare chattando tramite quelli che pescaresi e salutiamo tutti quanti, perché ieri e l'altro ieri soprattutto sono stati numerosissimi. Naturalmente lo potete fare dalla fonte generatrice, che è DJK. Un saluto, allora la parola anche a Giovanni D'Addario. Buonasera, cari amici, all'ascolto. Questa sera una bellissima serata insieme ad esperti della Movida e non solo del giornalismo, e addirittura del doppiaggio. Ecco, quindi, ma poi, vabbè, direi doppiaggio, diciamo, vabbè, però insomma, poi insomma, vedrete di che... Cioè, avremo da parlare, ma allora, approfittiamo. Dunque, c'è qualcuno che mi conferma che oggi c'è anche il cambio d'orario? Sì. Ecco, un'ora in più, un'ora in meno, perché ogni anno... Un'ora in più, un'ora in più alle due di notte. Allora, dobbiamo, dalle due bisogna spostare alle tre, giusto? Sì. E ecco, quindi praticamente, siccome noi fiammo alle tre, chiuderemo alle quattro e oggi abbiamo... ci siamo ripuliti, come si suol dire. Per cui, insomma, ci divertiremo abbastanza, faremo il cambio d'orario live, eh? La cosa bella, dalle due alle tre. Così andiamo già direttamente a ballare e sta a posto. Allora, noi vogliamo anche cominciare a salutare tutte le nuove persone che si sono collegate. Noi vediamo Fiorella senza video e senza microfono. Quindi, naturalmente, allora diamo la parola direttamente a Cristian Janzante, che è la new entry. Buonasera, Cristian! Buonasera. Buonasera a te, che bella voce posata. Ecco. Sì, molto rilassata. Di uno che sta dormendo tantissimo, perché, come ti anticipavo al telefono, io non ho ore, non ho giorni, non ho mesi, ma ho anni da recuperare di sonno e, infatti, in queste, diciamo, ultime giornate, infatti che non c'era proprio la sveglia, ma ho dormito quasi sempre fino a mezzogiorno e stamattina addirittura fino a luna. Quindi, presumo che domani dormirò fino alle 4 di pomeriggio, considerando che si finirà tardi e, oltretutto, andiamo anche a scalare in ora. Quindi, per il momento ti devo dire che questa pausa è stata molto utile proprio al mio corpo. Cioè, il mio corpo si è rilassato, finalmente. Il mio corpo che cambia, no? Beh, che cambia anche perché sto mangiando e soprattutto bevendo parecchio. Poi, dico sempre, domani smetto, domani smetto. Il problema è che, siccome non c'è un cazzo da fare tutto il giorno, tu capisci che almeno la sera mi voglio gratificare con qualche bicchiere di vino, con qualche bicchiere, che ne so, anche di birra, che di solito io le birre non le bevo molto, sono più amante del vino, dei prosecchi, di questa roba. E quindi, sì, il mio corpo sta decisamente cambiando, ma deciderò fra non lo so quanti giorni di cominciare a fare un po' di attività fisica e per il momento ho scaricato delle app, no? Che ti guidano. C'è quella da cinque minuti. Ho detto, vabbè, cominciamo con quella da cinque minuti, però sto rinviando, capito? Il progetto è di arrivare a quella di mezz'ora, almeno mezz'ora al giorno per bruciare qualche caloria. La verità è che a me della palestra non mi è mai fregata una mazza e continua ad essere una pratica che non fa per me. Non sono un tipo sportivo, diciamo le cose come stanno. Non lo sono mai stato, poi non sono neanche grasso, però potrei stare molto meglio se mi muovessi un po'. Invece non lo faccio, ma attenzione, non faccio i movimenti quelli tipici della palestra, quindi la pesistica, tutta quella roba, perché poi in realtà sono che si muove tanto, perché io mi faccio una media di 70-80 km al giorno su uno scooter, che comunque va guidato in un certo modo, diciamo che un po' di calorie le perdi, specialmente in mezzo al traffico romano, devi essere molto rapido nei movimenti. E poi generalmente, insomma, il mio non è un lavoro sedentario, al di là di quello che si potrebbe pensare, in realtà il doppiatore non lavora mai seduto. Qualche volta mi siedo, ma raramente quando faccio le narrazioni dei documentari, perché è un lavoro diverso, insomma un po' più pacato, un po' più tranquillo, ma quando doppi un film tu stai in piedi, ma non per scelta mia, perché proprio il film si doppia in piedi. Quindi comunque stai in movimento, capito? Però questo è l'unico movimento che faccio. Ma noi ti metteremo sotto torchio, perché partiremo anche dalle origini, dalle tue origini e poi del passaggio della via di mezzo, anche per Radio Cesar, dove insomma ci siamo ritrovati. Perché siccome ti abbiamo nominato spesso, io facevo anche l'imitazione dei tuoi programmi radiofonici del Cesar, che non voglio anticipare, perché insomma adesso è sabato, noi facciamo questa sera, come già anticipato, Saturday Night Not Fever, quindi almeno ci premuniamo da questa non febbre. quindi predirigeremo in particolare l'aspetto musicale, con Fiorella Gentile, che non so se tu conosci, però insomma personaggio veramente interessante, di cui noi siamo orgogliosi, però c'è un sottobosco, perché se ha incontrato, intervistato, il gota internazionale musicale, quindi avremo tantissime domande da fare. State belli, preparate le vostre birre, come ha detto anche Cristia Jansante. Nel frattempo noi abbiamo visto Bruno Barteloni prima entrare, poi vedersi clonato, sempre con la sua faccia così, bloccato, e poi scomparire. Per cui ogni volta che io voglio passare la linea a qualcun altro, che è il conduttore principale, ideatore di questa trasmissione, che è Bruno Barteloni, ecco che scompare. Allora a questo punto noi salutiamo anche Alessio Consorte e Mirko. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, felicissimo di avere un ospite così importante, la nostra star internazionale d'Abruzzo, Cristian Jansante, che ringrazio, e quindi sarà veramente una puntata de sé. E naturalmente ci sono anche tutti quelli che contribuiranno via chat, non solo per i saluti, ma anche per le domande, per le dediche, per i buon compleanni, quindi per gli auguri, eccetera. Intanto salutiamo Marina, Matteo, Enrico Busiello, che è stato in compagnia con noi, poi ce ne sono anche altri, Romeo sta guardando il video in diretta, insomma, poi man mano avremo modo anche di salutare tutti quanti voi, almeno dalla piattaforma, che vi sto vedendo, di quelli che pescaresi. Mirko, poi ci... Sì, aggiungerei anche Salvatore Salerni, Alessandro De Acetis, Remo Cavallo, Remo Di Pasquale, il nostro Matteo D'Inisio, che ci segue dalla prima puntata, e tanti altri. Ecco, infatti, già si sono collegati, vedo che c'è dall'occhio magico, che traspare da questa diretta, già abbiamo visto abbastanza, ma questo è soltanto l'inizio. Ecco Fiorella, noi ce l'abbiamo, buonasera a te Fiorella. Eh? Buonasera. Buonasera, ciao, un sacco di problemi tecnici, perché io ho le unghie lunghe, e non riesco a digitare bene. Ah, quindi cammini come i gatti, come gatto silvestro. Ho capito. Bene, avevo un pennino, che è scomparso in casa, e quindi non posso assolutamente più digitare in maniera propria, e Roberto è impazzito con me. Volevo salutare tutti che non conosco, perché io conosco soltanto Roberto, che è mio amico da tanto tempo, e che è una persona splendida, lo diciamo perché va detto. E poi conosco Mauro, che non vedo stasera, non ci sarà? Sì, Mauro Cesaroni ci sarà come? Entriamo alla chetichella, perché tanto la notte è lunga. Tra l'altro adesso sarà una notte ancora più allungata, perché alle due mi hanno confermato, dalle due si passa alle tre, quindi poi entreremo nel vivo della notte. Ma questo è il Saturday Night Not Fever, quindi per cui cercheremo di fare... Pino, senti, dimmi che cos'è questo. Allora, io devo mettere a schermo grande, perché vedevo le iconetti piccole, per cui adesso ti vedo meglio. Fammi rivedere per favore. Eccolo, eccolo. che devi sapere che io, ecco qua. Non in particolare. Tre, due, uno, Bansky, Bansky. Ah, mamma mia, mi hai tanato su una materia che non tratto molto. No, sorry. Scusa, non volevo metterti in difficoltà. No, assolutamente. Sono sicura che lo conoscessi. No, 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 anzi, sono molto contento, perché ogni volta che si impara, c'è qualcosa da archiviare, perché se uno già sa tutto, o credi sapere tutto. Allora, Bansky è questo artista, writer, non so poi perché si chiamano writer, dato che non scrivono, ma disegnano, ma lui è questo che fa queste cose pazzesche in giro per la strada, che la gente fa cercare di staccarle, no, eccetera, però si dice che sia uno dei Massive Attack. Ah, eh, come no? Beh, certo, assolutamente. Massive Attack, è fantastico. E niente, pare che sia lui, però non si sa. Comunque scusate, scusate, ho parlato per poco. No, cioè, qui scusate, non esiste, già hai dato un contributo, e noi già, cioè c'è venuto un brividino, appena detto Massive Attack, già qua, capito, perché noi possiamo far vedere 20 secondi di ogni cosa, quindi daremo anche motivo, quando saremo un pochino di più, di rinfoltire, rincarare la dose con questo Bansky, e parlare anche un attimino di Massive Attack. però noi ti abbiamo anche qui, tra l'altro, stasera salutiamo anche Paolo Sala, che è appena entrato, e poi c'è Cristia Ianzante, che è uno dei più grandi doppiatori italiani, naturalmente parleremo e staremo insieme. Il ciuffo, il ciuffo, il ciuffo, il ciuffo naturalmente, è come dice lei. Io vi ho seguito? Allora, scusa, ti interrompo solo un attimo Pino, vi ho seguito dall'inizio, e siete responsabili del fatto che io mi sono dovuta iscrivere a Facebook, di cui sono contraria, per cui, a cui sono contraria, per cui, per cui mi sono dovuta iscrivere senza mettere niente, per vedervi, ma una volta che vi ho visti, mi sono ricordata dell'altra domenica, perché nell'altra domenica sono nate moltissimi personaggi, che però sono nati in maniera naturale, cioè praticamente i personaggi erano loro, e la stessa impressione l'ho avuta in queste serate con voi, perché ciascuno ha delle caratteristiche speciali, e mi sembra di vedere l'inizio di un programma, che a parte questo è meraviglioso, ma che debba andare avanti. Ma tu ti stai facendo un complimentone, però perché le idee erano proprio quelle, capito? Le idee erano quelle, quindi dicendo così, cioè quasi è gonfiato l'ego come un pavone. Intanto salutiamo Mauro Cesarone, che ti mancava. Eccolo. Buonasera a tutti, ciao Fiorella, piacere di rivederti. Anche a me. Ecco, allora noi intanto preghiamo, visto che in questo momento c'è la conduzione diretta con Fiorella, mentre vi faccio le prime domande, tu hai parlato dell'altra domenica, però siccome ci sono anche molte persone che dimenticano oppure che sono più giovani, io pregherei qualcuno di voi, magari Roberto, di cercare l'altra domenica, il programma Tu Metti l'altra domenica a Arbore, e di sentire un attimino qualcosina. Magari, che ne so, lo ricorderemo anche per le sorelle bandiera? Ecco, probabilmente. Casomai. Ecco, casomai che Fatti Più Là, che poi tra l'altro Fatti Più Là potrebbe essere anche una delle sigle nostre, perché noi a volte abbiamo nove icone, adesso siamo diventati già undici, poi arriveremo a quattordici, quindi Fatti Più Là e le icone si restringeranno. Si rinficialiscono. Infatti ecco qua che magicamente entra finalmente la seconda donna di questa sera, non è più un ospite ormai perché è entrata nel gruppo, lei è Miss Adnil Linda Giuliani. Ciao Linda. Buonasera a tutti. Linda bravissima, ti ho sentito in un esercizio linguistico straordinario, che veramente è non plus ultra, a parte la voce e a parte il canto, quindi veramente complimenti, bravissima. Grazie Fiorella. Adesso è una parola per dare a tutti quanti il buon... Grazie di cuore. Ecco, il sabato sera, il buon sabato sera lo dai subito tu, a modo tuo, perché ogni volta faremo così. Vai. Che devo fare? Quello che già sai, dai, perché lei comincia a... Io? Io? Ma dice a me, stai parlando con me? Ecco dai, vai. Allora faccio una variazione. Vai. Ok. Buonasera a tutti, sono Linda e sono felicissima di essere con tutti voi. Questa sera tante novità, tanti ospiti e tante cose da ricordare. Sembra che c'è una, tipo una capsuletta sotto, che c'è un bucone incorporato. Fantastica. Pino, siccome tu, Pino, sei un grande ufologo, no? Sì. Volevo dirti, perché tu ti possa dare una regolata, che Luca, che è amico tuo e anche mio marito, praticamente mi chiama l'alieno, quindi ho detto tutto. Ecco, ma la cosa più bella è passare dai dischi ai dischi volanti. siccome qua d'altronde sappiamo già che dovremmo stare probabilmente anche dopo Pasqua, o almeno fino a Pasqua, abbiamo tanti giorni per parlare, quindi prima un attimino creiamo le pizze di formaggio e poi metteremo il formaggio dentro, per cui abbiamo tempo per parlare e ci auguriamo anche… Posso lanciare una proposta? Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ah, che bello, che bello. Allora, io vorrei che ciascuno di voi, ciascuno di noi, dicesse che cosa significa essere pescarese, cioè quali sono le caratteristiche che ci accomunano. Cristian Janzante. Ma poi per chi di Ortona è orvegli Ortona, insomma. È certo. Cristian, vai, comincia tu, comincia tu, dai. Io comincio? No, Cristian, diamo la parola a Cristian. Tu hai cominciato a proporre, adesso facciamo parlare prima Cristian. Dai, vai. Dai, Cristian. Ma io posso rispondere che cosa significa non essere pescarese, perché essendo di Chietiscalo non sono di Pescarese. beh, sono la mia questione. Diciamo che forse sono quello che non può rispondere a questa domanda. Dopodiché aggiungo però che Pescara è una città che ho nel cuore, perché ho cominciato a 18 anni, diciamo, a lavorare a Pescara in una radio che all'epoca si chiamava Radio Flash. Poi ho lavorato quattro anni a TVQ, quattro anni molto intensi, che poi sono stati anche molto importanti per la mia formazione. Poi la decisione di partire quattro anni dopo, di venire a Roma, di provarci, anche perché avevo 23 anni e mezzo, a un certo punto ho pensato che se non ci avessi provato, probabilmente non avrei avuto più occasioni, perché sembrerà strano, ma iniziare questo mestiere a 24-25 anni all'epoca, quando sono arrivato io nel 1989, sembrava già tardi. Io ho molti colleghi della mia età che hanno cominciato a fare i doppiatori a 7 anni, a 8 anni, a 15 anni, e quindi a 23-24 erano già molto affermati. Arrivavo io dal nulla e molti si domandavano come mai questo qui comincia così tardi, perché all'epoca, a 24 anni, sembravano tanti. Tutto questo è avvenuto a Pescara, è avvenuto a Pescara, grazie alla frequentazione che ho avuto con persone che poi mi hanno fatto venire la voglia, in particolare Elia Iezzi, che era all'epoca il direttore di TVQ, che aveva fatto il doppiatore, aveva lavorato a teatro con Carmelo Bene, con Spacesi, insomma aveva fatto a Roma molte esperienze prima di venire a dirigere questa televisione pescarese. Quindi diciamo che quello che oggi sono è nato a Pescara, quindi per me essere pescarese significa essere stato adottato da una città che mi ha fatto venire una bella idea che poi è stata la realizzazione della mia vita. Ma il carattere del pescaresi qual è? Chi è che me lo dice? Cioè qual è la caratteristica base del pescarese? Giovanni parla tu, vai. Domanda carico. Giovanni è mitico. Io sono Giovanni, come sta? Scusate, buonasera. Questo per me è il pescarese. Come stai? Buonasera signora. No se me no, scusate. No se me no. Non ci vuoi ci vuoi. Però rispondite alla domanda. Il pescarese è colui che guarda le montagne ma va verso il mare. Che visione poetica. è Alessio Alessio Novello d'Annunzio. Magari. Paolo pescarese? Paolo pescarese? Paolo? Sì, eccomi qua. nato a Torino perché i miei genitori erano stati per qualche anno a Torino però dopo dall'età di 5 anni siamo rientrati e vivevo sotto lo stadio Adriatico quindi ero un grande tifoso dalla minuscola età. E che caratteristiche hanno i pescaresi secondo te Paolo? Ma un po' coccioni se vogliamo. Però anche come si dice che gli abruzzesi sono anche forti e gentili. Dai su. Il pescarese secondo me diciamo che dell'abruzzese ha le doti migliori non me ne vogliano quelli che non sono pescaresi. E quali sono queste doti migliori? No sono Mauro Cristian Ciao Mauro E se è a buio completamente Mauro non ti abbiamo riconosciuto Sì non mi vedo Elenca elenca queste doti La doti migliore è l'essere permaloso il pescareo Aspetta Aspetta Però perdonami questa credo Non è una dot ma è un difetto No ma credo che sia credo che sia una caratteristica in generale dell'abruzzese No però aspetta Cristian Per dote intendevo non il migliore rispetto agli altri ma i minor difetti rispetto a quelli elencati della tipica abruzzesità che vuol dire l'abruzzo che è una terra per noi è centro nord per il nord è centro sud per qualcuno è proprio sud è una terra è una terra tipicamente cuttona proprio per i nostri origini i pastori senza che entrino in meriti complessissimi Pescara diciamo che tra le città abruzzesi ha avuto ed è ancora diciamo la città con la connotazione più open più aperta porto aeroporto ciao Giovanni quanto sei bellino diciamo che ha il miglior bacino di scambi commerciali ma anche a questo punto mi sembri Carlo Masci però cioè vai vai sciolto quindi diciamo che il pescarese tipico è vero che ha quella base di difetti abruzzesi cioè è cuccione è permaloso però ha anche una visione secondo me della località in cui si vive un po' più aperta rispetto agli altri non me ne voglia nessuno ho tantissimi amici dovunque non mi piace parlare male di nessuno e non sono campanelista quindi per me Pescara Chieti dovrebbero essere unite Pescara Spoltore Francavilla quanto si fa nel super comune sono d'accordo con tutti però Pescara passatemela è un po' più elastico un po' più Linda che pensi? io stavo pensando appunto a una definizione perché io ho terminato le superiori e sono andata via perché tra virgolette odiavo Pescara perché anche io confesso non riuscivo a esprimermi vedevo comunque molta chiusura per per la mia persona non perché sia una cosa negativa però io facevo fatica ad esprimermi quindi la prima cosa è stata vado via vado via per capire e sono stata a Milano poi sono ritornata poi sono ripartita in giro per il mondo e quando sono ritornata ho avuto una crisi fortissima di attacchi di panico quindi è stato ancora più devastante ma sei stata inseguita da un orso marsicano per capire no 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 e vabbè questo era legato più che altro alla mia situazione insomma personale in cui mi trovavo però voglio dire una cosa quando ero fuori Pescara quindi ero all'estero piuttosto che in nord Italia io parlavo sempre di Pescara a tutti ho visto credetemi tantissimi posti e dicevo sempre sì però l'Abruzzo c'è qualcosa in più ho sempre amato l'Abruzzo in generale ho sempre amato tutte le caratteristiche che sono proprio tipiche dell'abruzzese e dalla cucina anche il modo di parlare di comportarsi le cadenze tranne la stiche è terribile com'è scusa? tranne la stiche è terribile la stiche però faceva anche quell'effetto soprattutto a Verona quando quando parlavo un pochino in Pescarese devo dire che sortiva parecchia parecchia allegria questa cosa qua comunque io ho sempre provato una mancanza fortissima ti sento un pochino a scatti stai parlando con me ho capito bene posso inviare posso inviare poi quando me lo permettete un video che forse riassume un po' un carattere una versione goliardica del Pescarese sì magari certo Alessio lo posso inviare vado vai Ale go go ecco che ti sai Alessio bravissimo è bello veramente no io ho preferito farvi parlare vedere sentirvi Fiorella siccome ti sento a scatti non so se è una linea dal videofonino dal computer dal computer l'avrebbe controllata Roberto quindi dovrebbe essere perfetta dove è finito Roberto vedo soltanto i suoi strumenti Roberto sta pedalando per aumentare la corrente del tuo collegamento sta con la Dinamo io comunque siccome prima ho abbassato l'audio perché me lo aveva chiesto Roberto adesso lo rialzo scusate la impostazione qui Mirko tu sei di Pescara nativo sì della provincia di Pescara però ho frequentato sempre Pescara e penso di appoggiare un po' quello che diceva Mauro Cesarone perché il pescarese per serie accomuna un po' tutte le caratteristiche della Bruzzese ma con un occhio in più a quello che succede all'esterno quindi è pronto a recepire anche ciò che può accadere nel futuro quindi lo vedo un pochino più aperto come personaggio a Bruzzese bene nel frattempo poi controlla anche la chat perché c'è qualcuno che ha qualcosa di colorito e simpatico da dire almeno dalla parte mia non so mai se dal gruppo quelli che pescaresi c'è qualcosa in più o in meno da leggere rispetto a quello che vedi tu non me ne voglia quindi Mirko se ogni tanto lo anticipo perché ho capito che probabilmente riesce a leggere tutte le chat contemporaneamente perché la fonte è unica comunque per quanto mi riguarda invece la mia pescaresità io sono ho scoperto soltanto a 30 anni di avere del sangue flaiano reale da parte di madre quindi nonna e bisnonna con un cognome diverso perché siccome il papà c'è Teo aveva fatto non notoriamente segretamente una terza relazione che non si è mai saputa quindi nei decenni la cosa è andata avanti e mia mamma mi ha rivelato questa cosa quindi è chiaro che io sono molto orgoglioso di avere sangue flaiano detto questo nato cresciuto pasciuto a Pescara io non sono mai riuscito al contrario di un Cristian oppure di un Angelo Torchetti che adesso lavora a Isoradio io lo saluto con tanto affetto oppure anche naturalmente tutti gli altri personaggi che hanno reso da Pescara o comunque dall'Abruzzo fuori orgogliosamente il proprio lavoro e quindi la propria carriera io non sono mai riuscito a staccarmi da Pescara l'unico motivo per cui non sono andato fuori e perché mi mancava l'ossigeno ci ho provato ho provato in tutti i modi anche passando 10-20 giorni il fatto di abitare vicino al mare di stare qua non sono riuscito a toglierlo Pino ti posso dare un suggerimento perché non chiedi a Fiorella come ha fatto a raggiungere David Bowie eh vabbè ma noi David Bowie ce lo stiamo lavorando pian piano con calma con calma io guardate con tutto il rispetto con tutto il rispetto la prima domanda che farò è personalmente quella su Battiato perché ho visto però scusami scusami Pino io volevo sentire Giovanni perché non è intervenuto sul concetto di Pescara infatti lui voleva mettere in take il scivolato Bowie con calma abbiamo tutto il tempo ma io Fiorella sono qua per fare un po' di casino oltre alla regia e diccelo facendo casino quello che pensi diccelo facendo casino ma io che penso di Pescara che il pescarese è un uomo tipo che si appassiona tanto se una cosa gli piace spiana le montagne di contro se questa cosa non lo appassiona la snobba non gli dà non gli dà neanche rispetto ecco la allontana la allontana e soprattutto la disprezza e questa è una cosa brutta posso farti una domanda Giovanni se dovessi riassumere tutto quello che hai detto in un aggettivo per descrivere il pescarese quale parola utilizzeresti? guarda che Fiorella stasera ci mette in difficoltà la stessa domanda la possiamo fare aiutatemi alla Flaiano alla Flaiano il pescarese come è il pescarese? bello io ne avrei uno ecco vai vai Enri ciao Enrico buonasera ben ritrovato ecco ti ciao ciao a tutti ciao a tutti io proporrei questa frase va bene ancora più stretto c'è una parola che dici di dove sei? è facile capire fregate allora adesso posso intervenire una cosa? fregno il pescarese è fregno questo è il discorso io quando ho finito il liceo così sono andata all'università a Bologna e tutto quanto e ho pensato che era assolutamente impossibile vivere a Pescara perché Pescara poi al tempo era veramente diciamo un paese nel senso sia psicologico culturale di gioco di qualsiasi cosa e quindi sono andata via però poi ho capito l'abruzzese perché quando tornavo tornavo da New York che ti posso dire tornavo ad aver fatto delle cose mi veniva un senso di tranquillità incredibile perché il pescarese riesce il pescarese l'abruzzese veramente io adesso ho fatto la provocazione su pescarese perché era più semplice l'abruzzese diciamo che pianifica rende piatto tutto nel senso che incontra il cardinale il prefetto lo spazzino cioè per lui è tutto uguale e questa è una cosa meravigliosa anche se poi è dolorosa perché per chi casomai o ha fatto una cosa e si aspetta qualche complimento oppure ha avuto un tracollo e si aspetta una consolazione non l'avrà sì sì lo sento lo sento ma prima sentivo qualche slang e questa è bellissima sì infatti Enrico mi ha portato in me un ricordo con quello slang pescarese di una cosa che diceva papà che non so se era un modo di dire all'epoca non so negli anni 30 20 però papà in pescarese puro perché naturalmente 100% pescarese diceva appio lo adotterei per il pescarese proprio sì 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 ti diceva lui quindi se lo sai lo sai se non lo sai non lo sai non lo sai quindi se non sei pescarese è sallo ecco quello che vorrei io sarebbe sì è vero è molto bello cioè è una caratteristica secondo me molto molto avanti se uno la prende nel senso giusto è qualche cosa di molto molto bello io adesso l'apprezzo non saprei stare altrove che a pescare e l'ho rivalutata nel frattempo ho trovato ho trovato una foto per Cristian benissimo Cristian ho trovato una foto per per te non so se ti ricordi questi anni mamma mia proprio lo schermo vale Elia 1900 che era 80 e spicci ma guarda 81 non era sicuramente il mio periodo perché nel mio periodo Elia a parte che era un po' più cicciotto aveva anche già meno capelli ma il logo di tvq che lì non mi sembra non mi sembra diciamo di 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 proiezione ma mi sembra una cosa proprio fatta di un materiale fisso è un logo che io non ho conosciuto nel senso ho conosciuto quel logo ma all'epoca mia quando Elia leggeva il telegiornale quindi mi sembra che stesse leggendo il telegiornale aveva dietro una proiezione con il croma quindi non c'era questa tenda con questa cosa fatta probabilmente di polistirolo capito? io ce l'ho però ce l'ho vecchio vabbè quindi parliamo del 78 79 sì probabili i primi tempi no forse anche prima i primi tempi di Vincenzo Livieri ecco però abbiamo nel frattempo anche un'altra immagine visto che io ce l'avevo nel carriere come si suol dire e questa invece è la mitica trasmissione caccia il rumore questa è una foto ovviamente simpatica stupenda dove lui magari aveva qualche chiletto in più ecco pensa che Elia arrivò molto sopra il quintale no poi quando la genialità di quest'uomo poi a un certo punto si mette a dieta attraverso un giovane medico che aveva conosciuto e dimagrisce tipo 50 chili in un anno trasforma questa sua cosa in business perché poi aprirà dei centri di estetica dove si andava anche a dimagrire quindi da una sua situazione personale ne ha fatto un business successivo si caccia il rumore me la ricordo io ho anche condotto un paio di puntate di caccia il rumore in una dai sì sì in un due o tre puntate non mi ricordo in due o tre occasioni in cui dai fammi ti prendere un po' in giro Cristiano non c'erano ne Elia e soprattutto fai la battuta ce l'ho per chi so cretino io ormai da quando sei entrato qua e caccio tutta la mia tu eri il rumore eri tu eri no io tra l'altro dicevo ho condotto queste trasmissioni perché non era non era presente Gianfranco Valli perché poi a un certo punto il programma lì ha cominciato a condurlo Gianfranco Valli tu l'imitazione naturalmente ce la puoi fare perché eri bravissimo e lo sei ma lo so ti devo dirgli qua qua devi cacciare devi cacciare è inutile che fai così qua fai l'artista ma io neanche mi ricordo mi ricordo bene e smettila veniva definito il mic buongiorno da Bruzzo Gianfranco Valli e sì ma voglio l'imitazione se no non me la ricordo e dai che tu entravi aprivi le porte buongiorno come facendo sì sì però ecco una cosa che ci tengo a dire è che quando io ho condotto queste due tre trasmissioni naturalmente non ero al corrente del rumore perché il rumore lo conoscevano soltanto Elia e Gianfranco Valli che poi il rumore era sempre una combinazione di cose capito e vabbè insomma comunque sì una trasmissione mi ricordo benissimo insieme a Candy Candy è stata una delle trasmissioni di punta di di TVQ è perché Gigro Bonò Gigro Bonò ma da TVQ non me lo ricordo come no assolutamente Gigro Bonò era il fiore all'occhiello del boom poi della ritrovata di VQ quella diciamo dei manga giapponesi e sì perché il Rai debuttò praticamente in ordini di tempo se ricordo bene perché avevo 12 anni quindi i ricordi sono ancora buoni naturalmente il primo robot che non si dimentica mai è Goldrex quindi esatto esatto e io però ero più appassionato di Goldrex ecco perché Gigro Bonò non l'ho tanto seguito poi Gigro Bonò è arrivato anche su TVQ e ci ricordiamo anche che Mazinga è arrivato dopo in Rai e allora noi non ci abbiamo capito nulla perché noi sapevamo la storia al contrario avendo visto prima Goldrex e quindi praticamente poi con i personaggi abbiamo capito ben poco ragazzi ragazzi guardate che Alessio ci sta per lasciare c'è l'occhio appassito no no assolutamente c'è l'occhio un po' no stavo facendo degli inviti e allora forse si è storta Mirko mentre siamo in onda ci occupiamo che succede altri ascoltatori ci devono seguire quindi li invitiamo 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 benissimo Mirko allora c'è qualche cosina da ricordarci Pino ti ricordi butta via il tuo vecchio guarda se mi posso permettere erano proprio gli anni in cui i miei genitori facevano il gran bazar con il grande Elia Yezzi io ero forse 6-7 anni sì sì mia madre cominciò proprio lì la sua attiva e che cosa vendeva tua madre la time rivestimenti se posso scusate no assolutamente lo puoi fare lo puoi fare tanto siamo tutti amici pescaresi time rivestimenti Cristian tappeti moquette tutte queste cose qua mi pare di ricordare quel negozio sì però tu parli di anni forse in cui io non c'ero guarda ti dico dovrebbe essere intorno agli anni 80 80 82 però tu devi considerare che io sono entrato lì nell'86 e poi nell'89 sono andato via forse poco prima che tu entravesti però però no però mi ricordo il gran bazar e perché me li ricordo perché erano erano motivo di denaro quando venivano gli studentisti allungavano qualche soldo e mi ricordo una che mi dava sempre 100.000 lire che erano tantissime era Vanna Marchi la mitica infatti io ho un bel ricordo di quella signora perché è legato al fatto che quando veniva lei il giovedì che poi venivano a giovedì alterni capito un giovedì sì un giovedì no però due giovedì al mese veniva e mi allungava queste 100.000 lire quindi erano 200.000 lire oh Vanna Marchi ha sempre portato dei soldi insomma vogliamo dire devo dire che lei era molto generosa siamo andati anche una volta a cena non so quanti eravamo ha pagato tutto lei all'epoca 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 aveva parecchi soldi scusa se ti interrompo volevo dire ma dato che eccola eccola qua pazze scatenate no io volevo dire ma di questo gruppo che qui vediamo chi è che potrebbe essere il linguista che ogni sera dà un termine o una frase a brussese e la spiega al resto del mondo perché è chiaro che questo questo programma va in mondo visione Bruno Barteloni sicuramente che lo fa perché non c'è ma anche Bruno credo che personalmente siamo un po' tutti pescaresi o quasi professionalmente abbiamo degli amici con cui potremmo parlare che conoscete anche voi Antonio per esempio sapete di chi sto parlando che è un professore ordinario tra l'altro proprio di questo però ecco se lo volete chiamare non so se allora intanto vi pregherei di estendere i saluti a tutti gli ascoltatori in maniera seria dunque allora io avrei da pregarvi di una cosa per cortesia allora siccome io so che forse voi mentre parlate non riuscite a sentire in cuffia io pregherei tutti quanti di ritornare al motivo per cui Giovanni vi prega per cui noi abbiamo le cuffie cercate di procurarvi una cuffietta perché spesso quando si parla voi non capite che l'altra persona sta intervenendo e magari anche succede a me di interrompere l'altra quindi procuriamoci di queste cuffiette così in questo modo capiamo benissimo la dinamica della nostra diretta Mirko e tentavo da qualche minuto dirlo perché non me ne vogliano le persone che sono qui nella chat però il programma lo fanno anche gli altri allora i saluti Mirko allora Rossano Carli che ci ascolta da Verona abbiamo Egno del Buffalo Bill Augusto Nobilio Matteo incarnato da Miami Fabrizio Terreo e Tony Giambuzzi che presto penso si riunirà a noi nella nostra video chat bene io voglio aggiungere se non l'hai visto perché magari si sono inseriti da qua Quintino Marcella che naturalmente è stato ospite il nostro chef no no apro una parentesi apro una parentesi Cristiano Quintino Marcella sulla chat ha scritto per te quindi ti saluta e ti dice che è un gran piacere rivederti quindi ti ricordo no no volevo soltanto dire una cosa che mi ricordo a proposito di Gianfranco Valli che portava me Marco Merli e Daniele Barone il sabato sera a mangiare in questo ristorante che Quintino gestiva mi pare a Silvi beh mi ricordo veramente delle cose straordinarie adesso non so se me le ricordo straordinarie perché avevo 18 anni e il mio palato non era ancora tanto allenato ricordi bene caro Cristiano perché abbiamo scoperto io personalmente non lo sapevo che c'è una pietanza nota ormai in tutto il mondo abruzzese e lui è stato l'inventore di questo ovvero gli anelli alla pecorara ma veramente l'hai vettato di lui non sapevo di questa cosa è vero Giovanni che ha detto così lo ha detto in diretta non sapevo di questa cosa non ti seguivo però confermo confermo se lo dici tu è giusto no dai a parte gli anelli alla pecorara Quintino Marcella ha dichiarato di averli inventati lui cioè come pietanza ah sì 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 certo certo no la pasta alla mugnaia ah per il mondo abruzzese e lui è stato l'inventore di questo è vero gli anelli alla pecorara veramente non ti seguivo però confermo confermo ecco sentivo un ritorno incredibile attenzione c'è qualcuno che ha il ritorno di facebook aperto dovete assolutamente abbassare ascoltare il ritorno in cuffia grazie gentili ospiti anche quelle piccine piccine non c'è problema Linda ti vedo bella attiva volevi dire qualcosa in merito della pasta no vabbè io signor Marcella non lo conoscevo purtroppo mi dispiace per questa cosa però sono curiosa di conoscerlo a livello culinario e quindi aspetto che questa questa cosa che sta avvenendo fuori le nostre case finisca in modo tale che andiamo a provare direttamente queste sue specialità bene 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 Fiorella che cosa volevi dire che ti abbiamo interrotta noi i problemi dell'Enel riguardano specialmente Mauro Cesarone perché vedo che è molto spento ti stai facendo le lampadine ti stai facendo le lampade Mauro avendo il negozio chiuso non paga le bollette purtroppo Mauro Cesarone è fuori ormai sono a bici con la Dinamo che mi produco l'unica lampadina allora attenzione ci sono i saluti di madre natura chi è che me li manda al volo eccolo qui il nostro sottoregista più attivo del regista in capo buongiorno amici volevo fare un saluto gigante a tutti quelli che abitano in Abruzzo a miei amici musicisti DJ cantanti insomma tutti quelli che appartengono al mondo del spettacolo un bacio grande a tutti volevo dire forza per questo incubo che in questo momento sta capitando a livello mondiale io resto a casa voi rimanete a casa mi raccomando ragazzi se no non finire a più questo incubo volevo mandare un grande saluto a tutti forza grazie e a questo punto parola ad Alessio Consorte che è stato il suo fotografo personale prego personale no l'abbiamo scelto io e Cristina Ferrari per le campagne di fisico fino a due l'anno scorso veramente la persona splendida si sei sono una modella internazionale ai livelli di Naomi Campbell quando sfila e quindi poi chiaramente è diventata la madre natura di Bonolis e niente mi ha fatto piacere che ha visto la puntata su facebook e ci ha inviato i suoi saluti quindi la ringrazio saluto anche Cristina Ferrari che ci segue online la nostra stilista un bacio sembra finta no comment bellissima meravigliosa veramente meravigliosa tanto bella che sembra finta vi faccio vedere una foto che ha fatto con noi per quando scattammo la campagna western ce l'ho qui un attimo al volo sappiate che ha scelto Alessio proprio perché è così bella eccola qua vedi è lei al centro vedi mamma mia sembra foto sembra un photoshop ambulante no 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 è vero è vero è pazzesca ed è stato molto bello vederla nature anche madre natura nature da questo video perché comunque bella lo stesso senza trucche senza niente quindi molti dicono vabbè però truccata sono bella pure io dice qualcuno e invece in questo caso così ma si potrebbe fare qualcosa per Pino Morelli Alessio che dici qualche book è vero è pazzesca è stato molto bello io intanto volevo salutare una persona almeno in fotografia visto che dalla prima puntata questo è l'inizio della seconda settimana quindi siamo già alla puntata numero 8 perché abbiamo debuttato proprio una settimana fa era sabato 21 con l'ingresso della primavera e non a caso con madre natura questa settimana stiamo rinnovando l'invito di questa pallida primavera che per il momento ci ha offerto la neve non so da voi in tutta Italia in tutto il mondo che ci state seguendo e non sto esagerando perché ci sono persone veramente che ci seguono anche dall'Africa dall'America come abbiamo visto volevo salutare approfittare di salutare Franco Placido che vedete nella fotografia ecco Franco Franco è l'ideatore di quelli che pescaresi che ringraziamo ringraziamo di cuore di ospitarci sul suo gruppo numerosissimo numerosissimo che naturalmente credo anche Cristian ricorderà Franco più o meno perché per un periodo di tempo ha supplito al programma La fine del mondo insieme a Vincenzo Olivieri e comunque faceva parte dello staff di Radio Cesar ti ricorderai? sì assolutamente sì però no non l'ho mai conosciuto mi ricordo di lui ma non ci siamo mai conosciuti probabilmente era già uscito forse sì o forse ero andato via io già eh potrebbe potrebbe essere comunque grazie Franco ciao naturalmente inutile specificare alcune situazioni che portano Franco in questi anni non troppo felici per lui però noi siamo tutti quanti con te c'è un sacco di gente che ti vuole bene ti viene a trovare quando è possibile noi in questo momento siamo con te e soprattutto grazie Franco perché so che tu ci stai seguendo e tra l'altro ci ha fatto anche molti complimenti io li accetto molto vivamente i complimenti da lui ciao Franco e grazie bravo Franco bravo Pino scusami Pino avrei una domanda per Cristian dalla chat c'è Remo di Pasquale che chiede a Cristian quali saranno i prossimi lavori in uscita nelle sale cinematografiche speriamo ma credo nessuno perché ci sono non so più di cento film bloccati che dovevano che dovevano uscire in questi due mesi e che slitteranno addirittura si parla di alcuni film che verranno programmati dopo l'estate inoltre io mi auguro sinceramente che la gente torni al cinema ma non credo che sarà una cosa scontata è un po' come dire le navi da crociera immaginate se noi fossimo stati operatori di navi da crociera io non so se per i prossimi due anni qualcuno salirà su una barca e la stessa cosa vale un po' per il cinema cioè la paura di stare vicino agli altri secondo me non ci abbandonerà molto in fretta come minimo questa psicosi ce la porteremo fino a Natale se tutto andrà bene quindi molti film che dovevamo doppiare non li doppieremo ci sarà un ritardo notevole un po' su tutto diciamo su tutta la programmazione questo naturalmente non vale invece per la televisione non vale per i prodotti che ne so che io doppio per Netflix piuttosto che per Amazon insomma anche queste piattaforme nuove che sono uscite recentemente ci hanno tanto materiale che andrà doppiato quindi non ci sarà sicuramente un grande fermo del doppiaggio ma del doppiaggio del cinema probabilmente sì non ho doppiato film di cinema che dovevano uscire o perlomeno non me lo ricordo ma mi sembra di no gli ultimi due o tre film importanti che ho fatto sono usciti uno è stato Richard Jewel il film di Clint Eastwood un altro è stato un ritorno a Ewan McGregor un attore che io ho sempre amato tanto che doppiai molti anni fa in Trainspotting che è stato poi diciamo il suo film un po' anche il mio per quanto riguarda la mia carriera nel senso è stato il primo film proprio da protagonista che ho doppiato nel 96 è un attore che ho rifatto altre 6-7 volte e poi nel film che racconta la storia di Harley Quinn l'ho ridoppiato in un ruolo molto molto divertente però questo film ha fatto in tempo ad uscire ecco prima che accadesse tutto questo le cose che sono state fatte e che dovevano essere messe in programmazione da qui a poco verranno tutte quante rinviate invece no sto facendo tante cose per queste piattaforme tante serie televisive tanti film qual è il personaggio tra questi Trainspotting che stiamo allora Ewan McGregor è l'ultimo sulla destra eh sì quello diciamo con le braccia così beh questo è un film generazionale beh questo è diventato un cult diciamo che quando noi abbiamo doppiato all'epoca non esisteva internet i film nei paesi di origine uscivano prima e Trainspotting noi l'abbiamo doppiato a mi ricordo esattamente il giorno in cui abbiamo iniziato il doppiaggio era il 26 agosto del 1996 eccolo qua eccolo qua eh tu dirai perché te lo ricordi me lo ricordo perché il 26 agosto copriano di mia madre e e e mi ricordo appunto che poi il film uscì verso la fine di ottobre ma eh in Inghilterra era uscito già a febbraio ed era ed era stato un film di successo certo ripeto da qui a pensare che sarebbe diventato un cult generazionale eh no non non pensavamo questo eh però per me invece è stata la prima vera occasione importante quindi appunto che poi il film uscì verso la fine di ottobre ma avete sempre l'audio aperto era uscito già a febbraio ed era ed era stato un film di successo certo ripeto da qui a pensare che sarebbe di ok ricordatevi che quando mettete dei video avete sempre per il motivo per cui non siete in cuffia ovviamente poi c'è eh sì perché io sentivo me stesso di prima capito ok posso sapere chi è che ha mandato questo video questo contributo diretta by phone nessuno si è sentito tutto male ci sono dei problemi di linea abbastanza fortale questa era ci sono delle presenze ci sono delle presenze ci sono gli ufo stasera ma io sto sentendo sembra Linda che sta parlando però il maschio ti voglio dire invece capito posso posso no quella è la locandina di The Walking Dead e quello che hai visto è il personaggio che io ho doppiato per nove stagioni in realtà una serie io non l'ho mai amato ma perché proprio non mi piace il genere però è un po' rappresentativa di quello che stiamo vivendo adesso c'è le città completamente svuotate in quel caso perché è piena di zombie nel caso nostro no infatti Capostipite fu un film storico che L'ultimo uomo della o sulla terra con Vincent Price era un film che tra l'altro fu sdoganato in Italia perché la Hammer la celeberrima casa produttrice di film horror anni 60 con Peter Cushing Christopher Lee e tanti altri diceva che era troppo troppo era troppo avanti e allora un regista italiano si prese questo film poi è uscito invece nel 71 1975 il titolo è così Occhi bianchi sul pianeta terra ma tutto deriva dal romanzo I am legend che poi ha fatto sì che il terzo remake sia proprio io sono leggenda e quegli scenari desolanti con tanto di diciamo di zombie e cose varie parte proprio da quel romanzo sì ma infatti molto informato molto informato dicevo che recentemente infatti mi hanno chiamato in tanti che volevano da me un parere su questa situazione confondendo il personaggio con neanche con l'attore ma in questo caso con il doppiatore ci volevo sapere da me capito volevano avere da me pareri in merito a questa appunto a questo scenario delle città vuote proprio perché per nove anni ho doppiato The Walking Dead ma ripeto io non solo non non l'ho mai visto proprio perché è un genere che non mi appassiona ma nemmeno mai avrei pensato che ci saremmo ritrovati in una situazione simile ecco no stavolta non si sentiva no c'era l'immagine però no perché è stato trasmesso un'immagine è stata trasmessa un'immagine degli incredibili perché questa era la tua voce anche no no allora no io non ho doppiato allora Mr. Incredible no io facevo il nemico di Mr. Incredible che era un ragazzino che si chiama Buddy Payne che poi diventa grande da grande cambierà il suo nome si chiamerà Sindrome e farà la guerra a questo a questo supereroe che da bambino lo aveva da ragazzino diciamo da adolescente lo aveva e io l'ho doppiato sia nella versione diciamo da adolescente quindi 16 anni e poi nella versione da adulto ma allora la domanda ci sorge spontanea invece il personaggio che più è aderente alla tua personalità oppure che ti è piaciuto di più qual è tra quelli che hai doppiato cinematograficamente o televisivamente ma parli del personaggio o dell'attore beh il personaggio eccolo qua eccolo qua io ero questo qui ero questo qui si ricordo bene guarda che bellissimo vero guarda che bellissimo l'usdentate di sorrento esatto no ma guarda ti dico probabilmente perché in 12 anni l'ho doppiato in tutti i suoi film cioè 22 film forse l'attore che che aderisce meglio non tanto alla mia vocalità ma al mio modo ma più che altro io aderisco al suo perché ormai lo conosco come le mie tasche è Bradley Cooper che io ho doppiato in Una notte da leoni e poi da lì in tutti i film fino a l'ultimo che era sempre di Clint Eastwood ecco perché mi era familiare questa voce questo è uno dei film della trilogia la trilogia naturalmente pari tutti e tre no? beh no non solo tutti quei tre ma l'ho doppiato anche che ne so in film come Limitless in American Astle in America Sniper l'ho doppiato nel film con Lady Gaga e quindi è Star is Born è Star is Born sì sì fino a The Mule eccolo qui fino a The Mule altro film di Clint Eastwood fantastico bellissimo l'ho doppiato compressivamente 22 volte ed è l'attore che ho doppiato di più quindi forse mi sento più legato a... hai vinto un Oscar diciamo tutto sommato cioè hai vinto più Oscar probabilmente Cristian allora perdonami l'Oscar che invece mi ricordo con piacere anche perché è un film che ho amato tantissimo e poi sai più che altro poi questi film io li ho amati perché sono stati i primi film importanti che ho fatto è stato l'Oscar per Shakespeare Love dove appunto doppiato il protagonista l'attore si chiama Joseph Fiennes e quello me lo ricordo particolarmente ma ti ripeto ma forse perché sono state le prime cose belle un po' come il ricordo delle prime radio delle prime esperienze radiofotiche la mia esperienza radiofotica l'ho fatta in una piccola radio di Chieti Scalo che si chiamava Radio Gamma nell'estate del 1978 beh però ti posso dire che nonostante fosse una piccola radio di Chieti Scalo per me quella rimane l'esperienza fondamentale c'è Mauro Cesarone che voleva dirti una cosa sì mentre parli forse cioè sicuramente spero che tutti sappiano chi sia tu chi sia ma volevo condividere se mi dai l'ok visto che è una cosa pubblica io penso che tu abbia diciamo una cosa bellissima cioè Cristian è l'unico ad avere la possibilità di avere una pagina Wikipedia cioè quando apri su c'è Cristianianzante c'è una cosa infinita guarda io scorrevo per vedere qualcosa cioè ci stai un quarto d'ora a vedere quanto tu abbia prodotto ma sai perché guarda ti fa veramente onore veramente no ma lo so sono tipo 30 pagine di roba ma perché un doppiatore non è come un attore un doppiatore a volte può doppiare un film in un giorno capito capito ma guarda qui scorro 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 vatti veramente tanti beh meno male visto che i miei complimenti personaggi grazie grazie figurati ma lavoro 10 ore al giorno a 30 anni è chiaro che ci sono tante cose che ci sono tante cose sì 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 e poi appunto te ne rimangono poche però quello che dicevo a Pino cioè alla fine le cose che mi ricordo sono una decina di film cioè che mi ricordo nel senso che proprio ricordo come l'abbiamo doppiati il clima che c'era in sala ricordo i colleghi il direttore di doppiaggio la direttrice oggi onestamente è cambiato anche un po' tutto nel senso che la tecnologia ci permette di lavorare al triplo della velocità rispetto agli anni 90 e un po' poi aggiungi che è diventata un'abitudine ormai per me è un mestiere non c'è più è un po' come quando c'hai una fidanzata che ti piace tantissimo dopo tre anni quattro dieci venti trent'anni non c'è più quell'ormone a palla capito come i primi tempi quindi adesso io pur facendo per fortuna delle cose importanti insomma poi me le lascio alle spalle abbastanza in fretta e comunque non non conservo grandi ricordi questa è una cosa che mi dispiace però purtroppo non ti puoi imporre la che ne so la gioia questo non vuol dire che farei una domanda capito sì non ci conosciamo di persona però mi fa piacere almeno in questo momento di conoscerti perché non sapevo nulla di tutto questo pur da pescarese mi veniva in mente mentre tu facevi l'elenco e anche il fatto di Wikipedia ma hai pensato sì scusami Mauro vabbè è l'età hai pensato di fare potresti pensare di fare una biografia un'autobiografia cioè lasciare anzi non lasciare farla proprio tu per scrivere la tua vita per scrivere un libro sulla mia storia no un'autobiografia no non ci ho pensato onestamente no non ci ho mai pensato perché sei giovane ecco perché ma no perché c'entra a parte che non sono neanche più tanto giovane perché comunque sia eh volevo dire questo io 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 quando quando stavo a Corri in Abruzzo quelli della mia età li vedevo abbastanza anzianotti detto questo no è un pensiero che non mi è mai venuto ma ti dico anche la verità perché eh penso che non interesserebbe a molti onestamente no non è vero non sono d'accordo beh il fatto stesso che su Wikipedia hai una tua pagina lunghissima 30 pagine come dici tu penso che ne valga la pena di fare un'autobiografia ecco mentre vediamo le immagini di Lady Gaga e Bradley Cooper a cui la voce abbiamo qui abbiamo il piacere il piacerissimo di avere un amico un abruzzese e anche un collega poi parleremo anche io ti farò poi altre due domande perché poi adesso passiamo anche a Fiorella che ha tanto da dire volevo però chiedere una cosa a Fiorella Fiorella rispetto agli altri com'è che tu parli così bene dove dove hai studiato la dizione come mai non sento la calata cafonegna quella di Pino Morelli diciamo così ma no dai Fiorella dove hai studiato il merito iniziale si è stato di un'attrice che era un'attrice della televisione che si chiama Fiorella scusami più forte per voi e andai da lei a prendere delle lezioni di edizione perché mi rendevo conto che c'era qualcosa che non funzionava però non sapevo cosa non funzionasse allora per esempio lei mi disse in mente vostri abruzzesi mente i sei sei tre mi diede delle imbeccate che mi sono rimaste comunque impresse poi ho fatto migliaia migliaia di ore di radio ma sai perché il problema non è tanto la dizione che sicuramente va studiata ma poi alla fine so dieci regole la difficoltà vera è quella di togliersi la cadenza dialettale cioè l'abruzzesi ha un suono in questo modo qua esatto se lo fanno sempre in questo modo qua no capito e poi c'è sempre un po' la minaccia sotto capito nei retropensieri ci sta sempre un po' la minaccia che cazzulissimi no capito nel momento in cui tu poni una domanda dubbia la risposta è questo suono abbastanza aggressivo che è piuttosto tipico dei suoni del sud poi lo riscontri anche quando gli abruzzesi parlano in italiano capito quella è la cosa più difficile infatti dunque ci sono due elementi uno è quello che mio padre era è nato anche se per da famiglia abruzzese però è nato a Firenze quindi lui ha sciacquato nell'arno i suoi panni mia madre era siciliana quindi non si sentiva tanto questa sicilianità però non si sentiva sicuramente l'abruzzesità ecco però dentro casa non si parlava abruzzese non si parlava abruzzese questo questo è molto importante è vero comunque credo una cosa che oggi più che mai forse Cristian sarà d'accordo il dialetto è il vero plus valore cioè parlare italiano è come dire una carta d'identità nel senso che se tu vai a Milano e parli barese fai certe cose oppure sei minoranza invece parli italiano e va bene però tutti questi nostri meravigliosi dialetti hanno dei modi non soltanto di dire ma anche di intendere la vita in poche frasi in qualche slogan in qualche modo che sono insostituibili io mi rendo conto che quando parlo uso un po' di napoletano un po' di milanese un po' di siciliano perché ci sono delle cose come quando impari un po' l'inglese che non sai dire in un altro modo e quindi la nostra italianità è fantastica io non voglio fare dello sciovinismo per carità però noi italiani siamo tutti al mondo bravissima Fiorella non c'è un posto come noi non ci sono persone come noi infatti qui abbiamo delle persone in chat tra cui Maria Carla dice il pescarese puro sangue non esiste siamo tutti oriundi però tutti abruzzesissimi e poi Eliseo in calza dicendo perché nu se me nu dimmi adesso che vu ecco vedi come esce fuori poi poi Maria Carla dice la metropoli d'Abruzzo Tony Giambuzzi che salutiamo che abbiamo avuto già e avremo per tante altre volte dice Pescara ti manca da morire quando non ci sei Maria Carla dice no la cadenza no poi il pescarese in che senso che vuol dire no la cadenza no che cosa vuol dire non lo so in questo caso perché sai poi vengono sfalsati tutti i messaggi no la cadenza non la dobbiamo avere oppure no la cadenza non si sente può darsi che non la dovremmo avere può darsi secondo me voleva dire no Zipo Sindy scusa mi la traduco Zipo Sindy no però devo dire che quello che è l'analisi della signora è assolutamente giusta infatti io penso che è giusto mantenere le proprie origini anche nel nel modo di parlare il problema nel mio mestiere è che non si può fare ecco per quale ragione siamo costretti diciamo a parlare quella sorta di italiano neutro che ormai credo sia rimasto soltanto per i doppiatori quando diceva Ennio Flaiano l'italiano la lingua parlata dei doppiatori non aveva torto perché anche i giornalisti che una volta per esempio il Rai erano costretti a fare dei corsi per parlare bene già da tanti anni questi corsi non li fanno più e io gli accenti li sento il problema ripeto nel mio mestiere è che un film indiano himalaiano francese americano o tedesco non può suonare con l'accento di Pescara con l'accento di Firenze o con l'accento di Est perché non si contestualizzerebbe più il film capito c'è un uomo cinese con la muraglia dietro che quando parla parli in questo modo qua dai ti devi spostare da là non gli credi più capito non gli credi che è un film che è un film internazionale sembra una una pantomima locale capisci questo discorso vale per la musica tu nella musica se sei un musicista fai una melodia e dopo svisi per cui tu devi assolutamente conoscerla la melodia per poterla svisare sì ci sono anche i free jazz che fanno che partono direttamente dalla svisata però intendo dire la lingua italiana dobbiamo conoscerla perché siamo italiani guarda io ti dico una cosa ti dico una cosa io non sopporto gli attori che non studiano la dizione ma ti spiego per quale ragione anche se a teatro che ne so ci troviamo ad interpretare un dramma shakespeariano anche se non doppiamo nessuno quindi siamo noi con la nostra faccia e il nostro modo di parlare io non trovo che possa essere credibile un dramma shakespeariano con l'accento fiorentino dove quello dice da fare da dire capito cioè secondo me non può funzionare ecco un attore l'italiano lo deve saper usare dopodiché va da sé che se facciamo Gomorra lo dobbiamo recitare in napoletano se facciamo Suburra lo dobbiamo recitare in romano e se facciamo che ne so un film che racconta la storia di un pastore di Casal Bordino lo faremo con l'accento abruzzese però ripeto a seconda della situazione uno poi utilizza il linguaggio che è più adatto infatti noi doppiatori per questa ragione tradiamo tantissimi tantissimi prodotti ecco voi immaginate Gomorra doppiato in francese Gomorra doppiato in tedesco perché poi tra l'altro il doppiaggio non si fa soltanto in Italia attualmente mi pare che siamo arrivati nel mondo a 36 edizioni diverse quindi ci sono 36 paesi che doppiano Gomorra fuori dall'Italia ripeto non lo puoi doppiare se non con una lingua neutra la stessa cosa la facciamo noi quando arriva un prodotto che ne so che parla della mafia russa in quel prodotto russo lì si utilizzano degli accenti tipici di quei luoghi che noi ripeto trasformiamo in un italiano neutro perdendo il 70% del sapore del linguaggio ma non è nemmeno possibile doppiare un film che parla della mafia russa con l'accento calabrese dobbiamo parlare di un'altra cosa adesso bisogna che tutti quanti intervengano perché dobbiamo lancio la seconda richiesta la prima era qual è la caratteristica del pescarese la seconda è dato che abbiamo parlato della lingua italiana che cosa ci differenzia sul sesso come italiani perché siamo i più forti al mondo stavo dicendo i più fighi al mondo poi mi sono censurato perché siamo i più fighi allora Alessio dai Alessio vai che c'hai c'hai esperienza dai ma non ho capito bene la domanda Fiorella perdonami abbiamo parlato della lingua italiana no? si si contraddistingue in quanto nazione eccetera però ci contraddistinguono anche altre cose per esempio la sessualità in Italia è concepita un pochino anche gli spagnoli hanno una nominata diciamo di questo tipo però gli italiani oggettivamente di più italiani maschi femmine adesso quindi io vorrei fare un giro di tutti però tutti vorrei sentire tutti perché stiamo parlando solo io e Cristian non mi piace allora questa sera in particolare state sentendo la voce di Fiorella e di Cristian perché chiaramente noi abbiamo già dato e nei giorni anzi saranno rimasti anche i miei colleghi stupefatti del fatto che io non parli mai però io l'ho sempre detto io a volte devo inserirmi perché ci sono i momenti morti voi i momenti morti non li state creando io sto ascoltando molto bene l'unica cosa che in partita allora geliamo un attimo la tua domanda perché poi so che abbiamo tanto tempo però già abbiamo fatto un'ora di diretta tornando non sempre magari si parlerà dell'abruzzese e del doppiaggio io vorrei ricordare due momenti particolari in cui il pescarese o comunque l'abruzzese è entrato direttamente invece nei film siccome non ricordo esattamente qual è stato quali sono stati i doppiatori aiutatemi Cristian mi puoi aiutare perché è qua allora innanzitutto stiamo parlando di Austin Powers chi è l'autore se che tu ti ricordi e come mai è stato utilizzato il pescarese no allora ti lo spiego perché quell'attore che si chiama Myers qualcosa interpreta tutti i ruoli all'interno di quel film è sempre lui che si trasforma e che fa tutti i personaggi ok siccome questo attore è stato doppiato in quel film da Roberto Pedicini lo stesso Roberto Pedicini ha dato voce a tutti i personaggi caratterizzandoli in maniera diversa e in uno non so se uno o due persoformi credo uno solo però parlava con l'accento abruzzese ecco allora vediamo se riusciamo a sentirlo vediamo lo sentite? sì sì ma signor Biggswell ha fame? cosine da mangiare? nemmeno i panzerotti? le pattine di cozze? no noi non ci mangiamo i nostri gattini lascia subito lascia subito stare il mini signor Biggswell devi amarlo e coccolarlo sopra ogni cosa come ognuno sa ogni volta che do vita a un ingegnoso piano diabolico quel cattivone del signor Powers me lo fa fallire qualcuno sa dirmi il perché signore e signori perché non l'hai fatto fuori quando ne hai avuta la possibilità idiota no 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 Joe Joe mini me no vabbè in questo caso non abbiamo sentito la perché a un certo punto dice anche chiaramente non è la cosa c'è un gula si sente però li vedi li vedi due personaggi sia mini me che il suo diciamo capo è lo stesso attore capito e quindi ha anche lo stesso doppiatore ok capito che è Roberto che è di Pescara Roberto Pedicini certo e quindi e quindi siccome Roberto doveva caratterizzare in quel film tipo 4 5 6 ruoli non so quanti ne ha fatti che però erano sempre interpretati da un unico attore protagonista quindi doppiato da lui in uno o due personaggi ha utilizzato l'accento abruzzese così per divertimento è chiaro che in originale non è così è chiaro che in originale non è così anche io sapevo tra l'altro che questa sera ci doveva essere pure Germano che però non vedo e io in un film di una quindicina d'anni fa intitolato prima o poi mi sposo interpretavo era un film con Matthew McConaughey io interpretavo però stavo domandando proprio con Jennifer Lopez esatto con Jennifer Lopez io interpretavo un ragazzo che era stato promesso sposo a questa Jennifer Lopez che in realtà però poi era innamorata di Matthew McConaughey il titolo qual è scusa così lo cerchiamo prima o poi mi sposo a un certo punto questo ragazzo ubriaco su un cavallo intona una canzone naturalmente in inglese siccome io però avevo caratterizzato questo ragazzo con l'accento abruzzese per volontà del direttore di doppiaggio tale Francesco Bairano Francesco disse siccome sono tutti italo-americani e l'abruzzese nei film non si sente quasi mai caratterizzalo in abruzzese e quindi io parlavo con l'accento un po' così capito era un bel ragazzo però con l'accento un po' cafonino a un certo punto quando lui canta questa canzone in inglese mi viene in mente e propongo un pezzo abruzzese ho detto senti almeno in Abruzzo rideranno c'ho io una cosa e così ho cantato sotto la capanna a reta che la fratta te so fatte fa niente come n'altra ecco allora siccome io non trovo ancora il pezzo però però perché me lo ricordo questo film si pure io ultimamente devo dire che l'accento abruzzese si è diffuso a livello nazionale tornando al discorso di cui prima l'amore l'amore su canale 5 ormai sento più battute in abruzzese che il nostro amico Ezio Greggio mi pare che sia abbastanza chiaro allora ecco qua l'ho trovato e sono contentissimo di aver ritrovato il pezzo al volo perché non ricordavo in realtà il titolo però giustamente io ma c'è proprio il pezzo della canzone ce l'ho ce l'ho ce l'ho qua ce l'abbiamo faccelo sentire ecco qua poi infatti c'è scritto grazie a Induccio non a caso perché la canzone è Induccio eccola qua tutte le tue teorie sull'amore sono più il farneticamento di una persona cinica e senza cuore sotto la capanna reta che la frat ci sono fatte fa gne gne come una cazza allora se non lo sapevate io credo che questo è uno scoop incredibile perché io il film ce l'ho originale e devo dire che quando lo sentivo non sapevo niente io ero riso per dieci minuti e controllavo il DVD originale diciamo ma com'è possibile non riuscivo a spiegarlo ma certo ma in originale non dice canta un'altra cosa vabbè ma il DVD dice quello quindi è originale sai cos'è che era stata tradotta in italiano ma non faceva ridere allora ho detto visto che è una roba abruzzese ripeto almeno in Abruzzo siccome questa canzone la conoscono è una canzone molto popolare si faranno due risate il problema che poi ho saputo che qualcuno era convinto che questo pezzo fosse stato cantato anche nella versione allora il caso di dire cene cacini ma cacini indotto come faccio a dire in italiano va bene che va bene ma fino a questo punto ci sono frasi che vanno dette per forza in quel vernacolo lì esatto infatti questo è un altro grosso problema che abbiamo noi quando arrivano prodotti da fuori che contengono queste cose per esempio i Simpsons i Simpsons sono dei cartoni animati che sono basati molto sugli slang infatti i doppiatori americani utilizzano il loro accento ok che ne so c'è quello che ha l'accento dell'Alabama quello che ha l'accento texano eccetera eccetera tant'è vero che siccome sono personaggi fortemente caratterizzati ed estremizzati noi li abbiamo doppiati anche con i nostri accenti il dottor Nick Riviera dei Simpsons parla in abruzzese è un personaggio che negli ultimi anni non è più apparso ma mi ricordo che tanti anni fa era spesso presente nelle puntate e lo doppiavo appunto io con l'accento abruzzese e quando ci sono queste cose cioè tipo cioè tu come puoi se tu mandi che ne so in Francia un film dove uno dice freca d'ambetta come fai il francese come fai il francese a riprodurre questa cosa non lo può fare quindi si deve si deve trovare una cosa francese che però non renderà lo stesso modo però questo è il grande limite purtroppo del doppiato ma guarda visto che tu ci hai buttato questa cosa e meno male che internet è fuoriera di questo noi abbiamo anche la clip di questa cosa qua la vogliamo sentire ragazzi? vai vai ok eccola qua ehi ma non è possibile siamo ridotti paluccio salve a tutti quanti salve dottor Nick dottor Nick alla commissione per la negligenza professionale sono giunte varie accuse nei suoi riguardi tra le 160 più gravi le più seccanti sono aver eseguito operazioni con coltello e forchetta presi in una trattoria si ma li ho puliti col tovagliolo prima uso scorretto di cadaveri arrivi in anticipo se uso la corsia preferenziale per auto con passeggeri ehi nel pronto soccorso c'è un pazzo con un bisturi esige di vedere un ciarlatano questo qua era soltanto diciamo un accento ok che e si sente che non è un diciamo però c'è un anzee io ho sentito un anzee sì però in alcune scene ho utilizzato proprio dei termini abruzzesi capito solo se certo non potevo fare un personaggio completamente abruzzese perché non l'avrebbe capito nessuno noi abbiamo anche un po' questo problema che l'abruzzese fuori dall'abruzzo non si capisce anche se qualcuno mi dice ma come non si capisce ma non è possibile e invece è possibile vi garantisco che se tu vai a Brescia e parli l'abruzzese stretto le persone non ti capiscono quindi siccome questo è un prodotto che devono vedere da Messina a Bolzano ecco giusto possiamo dare delle sporcature capito non possiamo parlare il dialetto stretto bene per il momento grazie Cristiano poi parleremo anche un po' più dettagliatamente magari dei tempi che ti hanno dato anche altri tipi di battesimi parlando del Cesar di tante altre persone l'avevamo anche anticipato ma io a questo punto volevo intordurre anche Fiorella che è entrata così gentilmente già Fiorella che è gentile di nome e di fatto innanzitutto voglio dire una cosa non sempre Pino no? so essere molto aspra sono un scorpione ah beh vabbè ma ho avuto papà scorpione ma è anche molto poetico quindi so questo segno lo conosco bene innanzitutto da Cesar a Gentile ma il cognome Gentile è un caso? assolutamente è un caso non lo conosco neanche non ci siamo mai incontrati mai visti non so niente tutte le persone che adesso sono all'ascolto diranno ok vediamo un attimino questa bella signora che cosa ha da raccontarci e come mai l'abbiamo inserita io sinceramente sapevo qualcosina di te ma poi quando giustamente il grande Roberto mi ha ricordato e mi ha iniziato a questo sito che è johnlennon.it dove ci sono delle foto non solo relative al grande ex componente dei Fab Four io veramente sono rimasto di sasso la domanda parte proprio dal principio come mai hai avuto a che fare con tutti questi personaggi queste Rockstar nel frattempo noi scorreremo con le immagini e poi nei dettagli magari vedremo di parlare di qualcuno di loro come mai hai avuto questa grande fortuna questa grande possibilità allora un po' complesso però posso allora posso commentare le immagini casomai? sì magari sì nel frattempo allora questa per esempio è stata la prima intervista per l'altra domenica e praticamente all'altra domenica era arrivata perché con Renzo che avevo conosciuto nei corridoi di via Asiago avevamo fatto già un programma radiofonico che era di sua creazione che però finì rapidamente e lui fece il progetto altra domenica siccome mi conosceva in quanto giornalista musicale e frequentatrice quindi di concerti di tutto eccetera eccetera quindi mi sapeva tecnica essendo Renzo come sapete un amante della musica a livelli macroscopici mi aveva detto mi aveva chiesto se potevo fare la direzione diciamo di tutta la parte musicale per l'altra domenica quindi in pratica era un programma come qualcuno sa molto inconsueto molto irriverente molto alternativo così e chiaramente avendo io la responsabilità per la musica ogni volta che arrivava un artista ero diciamo in charge per fare le interviste eccetera eccetera per esempio arrivò Ringo dunque qui adesso ecco ecco qua Ringo stiamo parlando naturalmente di Ringo Star il batterista dei Beatles sapete così niente di che Ringo Star dei Beatles eravamo al bar con Renzo Arbore ed era la mia prima intervista televisiva ed ero tranquillissima perché ero fuori da una sezione di yoga avevo fatto yoga 40 minuti asana cioè asana anzi quindi stavo tranquillissima e lui mi faceva Fiorella ma come fai a stare così tranquilla io tremo io che sono così abituato ho detto guarda mi sembra naturale e vabbè quindi l'intervista con Ringo lui ci fu una polemica con le case discografiche in quell'intervista perché io avevo in qualche maniera introdotto un sistema nuovo di fare le interviste cioè siccome venivo fuori da una laurea in lingue di lettere e filosofia ma insomma corso di laurea in lingue cercavo per quel che potevo di fare la domanda tradurla per chi ascoltava sentire la risposta tradurla per chi ascoltava a quel punto certamente qualche cosa sfuggiva non è che fossi un interprete ok per cui i discografici discussero che io non so avevo tradotto male qualche cosa e Ringo che è una persona di una squisitezza straordinaria di una dolcezza di una signorilità straordinaria intervenne mia difesa e disse no no e come dice lei ma questo non lo dico per dire che avevo ragione probabilmente avevo anche torto ma per dire la natura di questa persona e questo era Ringo poi giù c'è John McLaughlin John McLaughlin anzi è un artista che qualcuno conosce che straordinario chitarrista meraviglioso il quale è il più grande al mondo è veramente allora io ho da dire qualcosa perché se stacchiamo un attimo la linea posso far vedere l'album tra i più importanti di Jazz Fusion che è questo questo è Friday Night in San Francisco Old Di Mela John McLaughlin e Paco De Lucia quindi stiamo parlando di uno dei dischi che io per 20 anni ho lavorato soltanto un po' tardi dal 92 fino al 2012 io ho sempre venduto questo classico che è immancabile per chi ama un pochino il Jazz ma anche la Fusion è un classico questo disco viene precedente alla fase diciamo spirituale di John McLaughlin perché lui è entrato nell'ashram di questo di questo guru indiano che lavora però a New York per l'ONU e quindi ha preso tutto questo andamento lì eravamo sul tappeto c'erano i maestri lontano poco con le trecine insomma era tutta una situazione molto particolare lui scrisse Between Nothingness and Eternity non so se ti ricordi sul retro di una degli album che erano una frase del suo maestro maestro anche stato di Carlos Santana eh sì sì infatti un album famoso anche molto apprezzato quando i dischi si vendevano eh sì questo è Brianino Brianino al tempo Roxy Music ma poi è stato il produttore degli O2 ecco attenzione possiamo dire una cosa che come tu hai anticipato l'altro giorno parlavamo anche di Joshua Tree beh se il suono eh di Joshua Tree è stato così importante come anche quello eh di Unforgettable Fire come e naturalmente ricordiamo Pride in The Name of Love è grazie a quest'uomo che vedete a sinistra che è appunto Brianino che praticamente è il quinto membro occulto fino a un certo punto degli O2 sì assolutamente e qui eravamo a casa sua a casa sua a Londra e lui aveva queste queste clip ancora aveva i capelli lunghi aveva ancora i capelli diciamo ed era di una di una simpatia di un'intelligenza speciali guardate lo sguardo di quest'uomo e lui ha un gusto musicale una capacità di andare sulla timbrica che è quello che come diceva Pino no? quello che ha cambiato in qualche maniera un po' gli O2 perché alla fine gli O2 erano un ecco arriviamo però volevo anche aggiungere una cosa perché visto che qua ci sono tantissimi disc jockey possiamo dire che Brian Nino è stato così uno dei più grandi sperimentatori della musica elettronica che il 90% di tutta la musica tecnoide che si sente ancora oggi nella discoteca è stata sperimentata ed è stata anche registrata come trademark da Brian Nino uno dei più grandi sperimentatori d'avanguardia al cospetto della musica elettronica fantastico fantastico ma anche persona bella allora qui arriviamo a David chi è questo non lo riconosco un signore che è caduto sulla terra credo Pino e quindi tu vorresti saperne qualche cosa lui è arrivato con il suo staff e con la sua manager e la cosa che mi ha qui eravamo all'hotel Quirinale a Roma che adesso credo abbia cambiato un po' questo giardino era meraviglioso però così anche se sarà bellissimo anche adesso e la cosa che mi ha colpito inizialmente era il fatto che io andavo facevo le interviste a questi artisti dove capitava il concerto retropalco o quant'altro e invece lì eravamo entrati in una dimensione cinematografica perché c'era il truccatore c'era la persona che gli toccava il fard le cose e tutto quanto però lui era di una semplicità e di una pulizia e di una presenza straordinarie noi ci siamo messi a chiacchierare io sono vedi sono assorta ma non è che sono come dire attratta da lui come uomo eccetera è proprio come come testa noi ci siamo messi a parlare e è passato un 40 minuti e sono passati 40 minuti e non ci siamo resi conto assolutamente gli altri nel frattempo uno il cameriere apparecchiava lui faceva gli scherzi fumava come un dannato goloise tra l'altro mamma mia goloise delle cose tostissime e purtroppo se ne poi ne ha sofferto poi di questo perché non sappiamo è morto di questo volevo approfittare e dire una cosa molto velocemente perché magari potrebbe annoiare il pubblico infatti la dico abbastanza velocemente riguardante David Bowie e in questo caso ti porto i saluti diretti da due giorni a questa parte di Maurizio Baiata ma dai Maurizio è troppo forte sai che eravamo a New York insieme con Maurizio ecco ma infatti l'intervista di Maurizio Baiata che ricordiamo è una delle più grandi firme almeno dal dal punto di vista degli anni 70 in poi dal prog rock eccetera ma è anche uno dei più grandi ufologi italiani anche lui dischi e dischi volanti l'ha cognato lui il termine per dire la verità voi Maurizio lui eravamo in scuderia insieme perché scrivevamo per lo stesso giornale all'inizio quindi abbiamo abbiamo condiviso tantissimo ragazzi vi ricordate Ciao 2001 era un settimanale tostissimo senza quel settimanale non si sapevano le novità poi insomma ha fatto storia per tutti anche per tutti i successivi giornali comunque andiamo avanti dai comunque Maurizio era già pazzo allora per gli UFO anche se non lo sapeva poi lui ha raccontato anche delle cose molto importanti ne parleremo un'altra volta certo lui è un personaggio pazzesco lui è stato il mio uomo per sei anni però al di là di questo ve lo dico in modo che sia chiaro il rapporto qui eravamo in Danimarca però lui è quello che ha creato i Genesis perché lui è andato Maurizio è andato a Londra e ha preso questo gruppo che ancora non era conosciuto l'ha portato in Italia lui non aveva una lira l'ha portato in Italia e con i soldi dei concerti poi faceva le altri concerti non hai nominato però ancora è Maurizio Salvadori sì esatto appunto infatti nella foto eccolo qua Maurizio Salvadori ok Tony Strato-Smith vabbè comunque per finire il discorso su Maurizio Maurizio adesso c'ha Giovanotti è quello che ha portato Michael Jackson la più grande agenzia aveva battiato aveva Claudio Rocchi aveva ha avuto tutti tutti quanti più grossi nomi perché ha una capacità lavorativa che va al di là di ogni possibilità concepibile a essere umano vabbè qui con Black Sabbath ecco allora se abbiamo un tema di attualità vedete poi come il tema di attualità ritorna vedete quel soggetto a sinistra dovrebbe essere proprio lui che ha gli occhi sorti da deficiente quello è naturalmente chi chi è chi è è il leader di Black Sabbath quello che noi ricordiamo appunto naturalmente ricordiamo per aver staccato la testa un pipistrello da là è partito tutto se ci troviamo è naturalmente lui colpa sua e qui c'erano anche altri giornalisti qui siamo sempre qui c'è Clapton ma non c'è nessuno ma chi è chi sono chi è Eric Clapton io non lo conosco voi conoscete chi è Eric Clapton è uno che aveva la mano molto lenta nel suonare la chitarra mamma mia ragazzi ma avete capito Fiorella Gentile chi è che quante persone ha conosciuto c'è gente che fa la sborona e dice ho conosciuto Ligabue che manco il pittore ho avuto questo onore di conoscere tutte queste persone perché nelle persone eccolo Maurizio Baiata tra l'altro il psicologo più famoso d'Italia e anche musicologo eccolo qua a destra è lui quando avevi i capelli come me sai dove eravamo eravamo a Napoli eravamo a Napoli perché Elio Danna Osanna poi uno eccetera che è un mio amico ma più di un amico è stato il primo amore quindi in volta una persona molto importante e in una seconda fase della vita è stato mio maestro quindi ha unito due ruoli molto importanti aveva creato questa manifestazione che si chiamava il Bean un po' sulla falsariga di quello che succedeva nel mondo c'erano i sit-in aiuto ecco allora bevi un bicchiere d'acqua e nel frattempo così c'è la possibilità Dario Dario Salvatore ecco questo è Dario Salvatore che poi tra l'altro peccato che Daniela Montalbano stasera non c'è negli anni 80 diceva che io ero cioè lui io ero il suo sosia ah quando avevi i capelli il naso anche un po' vedete l'ho incontrato da poco a Pescara è venuto a Pescara per manifestazioni fondazioni Abruzzo c'era qualche certo oh ecco qua questo personaggio per tutti i DJ lo ricordiamo per un film in particolare la sua colonna sonora naturalmente se ce l'avete anche di sottofondo la potete anche mettere che ed è Shaft Isaac Hayes la famosa colonna sonora ed è proprio lui tra l'altro ce lo ricordiamo anche per la sua partecipazione e lui ha ufficiato Woodstock aprì il proprio il festival di Woodstock entrò quasi a piedi nudi con un sandalo improponibile non aveva i denti all'epoca quindi immagino che questa sia la dentiera anzi lo è sicuramente e entrò a cantare Freedom con una chitarra Freedom Freedom così stiamo parlando di Woodstock raga niente di che niente di che era su una nota sola dall'inizio alla fine ed era ed era questa libertà no era un po' il canto il canto di liberazione il canto di riscatto dei neri perché oggettivamente poi loro vivevano io a New York poi li ho rivisti vivevano in condizioni anche abbastanza tutto sommato casuali non è che avessero fatto chissà quale 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 solde insomma e qui vabbè eravamo Isaac Case un pezzo di storia della musica soul tra l'altro questo è Richie Evans Richie Evans scusa sì esattamente eh no perché sai come ogni tanto hai fatto bene a correggermi perdonami no figurati allora niente qui eravamo qui sono i personaggi dell'altra domenica Mario Marenco dunque c'è dietro Gianni Minà dietro Gianni Minà dietro va bene ok è un certo Renzo di Pescaracolli che sta sulla destra allora Renzo l'ho sentito di recente che mi ha chiamato dopo tanti anni mi chiama mi fa Fiore pensassi che io mi sono scordato di te ho detto no veramente non lo credo per quale motivo dovresti scordarti giusto per tornare ai pescaresi no sempre capito no lui parla un po' di mano un po' di circurda di me ah sì è vero Cristian così adesso guarda Renzo che sono sicura che ti ricordi che ci ricordiamo perché io gli voglio un gran bene perché lui è una persona di grande generosità e anche un paraculo per carità eh eh a voglia sì sì lo è molto bravo perché è un talent scout scout incredibile e lui è capace di eh di conoscere in ciascuno di noi che cosa funziona e che cosa non funziona e tirarlo fuori è una levatrice in qualche maniera c'è questa capacità c'è Mario Marenco che purtroppo è morto e poi c'è anche Michel Pergolani è lui se non sbagli era l'altra domenica perché ce lo portai io in quanto Michel era collaboratore diciamo 2001 quindi quando io feci l'altra domenica serviva qualcuno che facesse servizi da Londra e io dissi perché non prendete Michel eccolo lì e poi lui Fabrizio Zampa del Corriere ecco qui qui ci sono sì Fabrizio Zampa un altro musicista importante scusami un altro giornalista molto no questo questo sulla sinistra sulla sinistra di Renzo è uno dei fratelli Bandiera delle sorelle Bandiera ah ecco 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 vedi che era anche bello prestante come uomo poi tu hai dei dreadlocks naturalmente carinissimi dreadlocks qui Ricci Evans Taj Mahal Taj Mahal un altro musicista che suonava con Ricci mamma mia molto bravo quel periodo mi sa il periodo un po' reggae di Taj Mahal forse era mi 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 blues più blues blues sì sì vabbè qui non commento commentate voi uomini che devo dire no comment un corridore Giancarlo Fisichella naturalmente io non Fisichella sì sono persone che casomai incontri intervisti ma di cui io non conosco granché perché io sono chi è appassionato di di motore Fisichella è diventato anche un DJ non so se lo sapete ma no vedi vedi sì sì infatti ho fatto anche qualche serata con lui pazzesco vedi tutto il mondo del paese Ivan è uno spiscio scusate il termine non sarà proprio da passare ma comunque è veramente divertente era molto divertente l'ho visto venuto tante volte a casa a Roma eccetera Ivan è veramente come tutti quanti spesso come spesso i gay hanno quella capacità di di scherzare su cose profonde e comunque di beccarti emotivamente che a noi donne piace perché l'uomo in genere invece questa caratteristica l'uomo diciamo nel senso tradizionale queste caratteristiche non ce l'ha per cui troviamo con questo tipo di persone una connivenza diversa chi che sta cartocciando la cornetta in qualche modo è arrivato Bruno Barteloni è lui ah ecco non ce ne siamo accorti Bruno buonasera che è successo la voce dell'intretomba eh cosa è successo Bruno se ci sei battuto guarda non ho idea risulto essere bannato e rimosso dall'applicazione chiedete al presidente bannario cioè come mai purtroppo c'è stato un errore tecnico usciva in doppia icona e quindi abbiamo sbagliato l'icona ed è stato bannato e adesso e adesso mi devi dire la verità diciamo che siccome ormai c'è nello a Pino Morelli da quando abbiamo iniziato questa trasmissione i numeri sono increscendo fortunatamente questo è l'unico bollettino dove i numeri crescono ma per un qualcosa di positivo cioè a livello di ascolti allora giustamente perché interrompere questa fase ascendente eliminiamo le marce puoi sempre bere un bicchiere di latte un bel bicchiere di latte il famoso bicchiere di latte quello non manca mai ma c'è tutta una storia legata che giuro all'ultima puntata rivelerò il perché c'è questa risata isterica ogni qualora mostro un bicchiere di latte ad Alessio questo svela perché ti ha visto ti ha visto già capito quindi il fatto è che non c'è ancora detto la marca di latte che con quei caratteri un po' non si può dire pubblicitare non importa la marca di latte c'è tutta una storia dietro ma lasciamo perdere comunque vi posso dire una cosa vedere la trasmissione dall'esterno serve anche a capire un po' quello che è il vero significato di questa produzione innovativa poi stasera tu stai guardando una cosa che è oltre l'interesse perché prima ci ha raccontato qualcosa Cristian adesso Fiorella abbiamo reso internazionale almeno come minimo nazionale perché abbiamo sdoganato l'Abruzzo fuori riportandolo all over the world quindi insomma infatti infatti ma poi mi sarebbe piaciuto davvero essere nel gruppo nel calderone questa sera soprattutto perché non vedo Cristian da una vita lo sento spesso perché mi piace andare al cinema ma non lo vedevo da una vita e si è fatto molto più bello rispetto a qualche anno fa ma io non penso una vita però perché credo che due o tre anni fa ci siamo incontrati a Pescara vicino a a Berardo non ti ricordi che ero con gli amici hai ragione è stato un attimo è vero è stato un attimo forse cinque minuti però dai non è proprio una vita una vita vuol dire tanti tanti non vedo da più tempo Pino Morelli ecco questo sì in realtà è un giro vita più che altro per te anche visto che ti sei un po' rinfoltito di chi li vedo comunque ragazzi siete tutti molto belli devo dire diciamo il web a proposito di abruzzesità c'era una telefonata prima che vi volevo passare li metto un attimo in linea sempre per non dimenticare chi siamo e da dove veniamo un attimo solo che vi metto in linea eccola arriva subito pronto pronto chi parla pronto pronto chi parla chi sei tu come che so io dina dina io mi chiamo dina ah dina mannaggia non sapevo che potrei essere eh ho detto ho detto che ma hai telefonato anche ieri ma che ti serve ah niente che mi serve da dove chiami tu da le nubunite eh da le nubunite alla Rocca Rocca San Giovanni casa mia no eh io da dove abita a Rocca San Giovanni alle nubunite ma scusa chi sei tu che quale avini sei chi sono a dina eh chi sono a dina dall'Argentina chi vi trovano niente cosi come ti vai trovando non ho capito che hai detto cosa vuoi tu volevo dire da dove chiami tu da casa mia non lo so ma chi ma tu chi vi trovano come si chiama quella persona che chiamo non ho chiamato nessuno io non ho chiamato nessuno ah le fai telefonare a qualche altre persone capito e lo so se vedi che qualcuno è sbagliato ma da dove te le fai tu dove sei so Dina Dina io mi chiamo Dina ma da dove chiami perché non l'hai fatto finire non ti preoccupare era tanta simpatica oh ma io stanotte non ci dormo come ha finito tipo sta telefonare scusa un po' bellissimo oh Mauro voglio sapere forse non hai capito com'è cioè si sono mandati a fanculo com'è ma se se mi avete tagliato ma chi è che ti ha tagliato Giovanni Giovanni fai un breve sunto ma che breve sunto faccio farti un sunto Giovanni ma che tanto questa è una sia in drittà non ti preoccupare c'è la musica da quando ci hanno tagliato la trasmissione per diritti di autore musicali cioè io ho mandato addirittura un tailandese che faceva con la base di Billy Jean cioè tentava di cantare e è saltato tutto ma adesso parlavano abruzzese non c'era problema allora c'è qualcosa Mirko da leggere in chat allora più che in chat abbiamo provato a contattare Germano quindi il nostro che purtroppo è a letto con un po' di febbre quindi non sta tanto bene e approfitta per salutare Christian Janzante un caloroso saluto da Anduccio per Christian e poi dalla chat vogliono chiarezza da parte di Christian sul doppio ruolo interpretato in Avenger perché si parlava di doppi ruoli e doppi personaggi vedete ma mi è capitata una cosa diciamo così un po' particolare che non succedeva forse agli anni 70 intanto vabbè aspetta poi rispondo a questa domanda volevo dire a Fiorella che hai fatto una vita straordinaria cioè pericolata voglio una vita spericolata a parte era una gnocca pazzesca e comunque insomma dalle foto mi sembra che sei divertita molto poi vabbè ho riconosciuto alcune persone mi diverto molto anche adesso anzi ti dirò ma tu è da Roma che parli o dall'Abruzzo non ho capito da dove parli io sono a Piscar ah tu sei quante cose di Piscar ti è Fiorella ed è gentile pure e poi vabbè ho riconosciuto personaggi che ho incontrato anche io da Dario insomma allo stesso arbore perché tu devi sapere Pino che io ho una sorta di papano artistico a Roma che si chiama Foxy John e tu ti ricorderai di John dopo ce lo facciamo ricordare direttamente da lui non ti preoccupare quando quando sentivamo Radio Luna eccetera poi io diciamo quando sono arrivato a Roma nell'89 l'ho conosciuto subito e quella è un po' la mia seconda casa dove vado ancora a fare tanti lavori e radiofoni ma quando l'hai conosciuto proprio Foxy John beh l'ho conosciuto nel dicembre dell'89 io sono venuto a Roma nel settembre o meglio proprio il vero trasferimento a novembre un mese dopo sono andato da lui ho cominciato a fare pubblicità locali sai queste cose che lui già faceva da parecchio e poi da cosa nasce cosa e lì dentro ho fatto una marea di roba adesso non ti sto a raccontare però insomma è veramente la mia seconda casa e lì diversi personaggi che ho visto adesso nelle foto di Fiorella insomma li ho conosciuti perché sono appunto amici di John a cominciare da Renzo Arbore che è molto amico suo perché John comunque ha fatto un pezzo della storia della radio questo non ce lo possiamo negare insomma negli anni 70 80 era 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 uno di di riferimento insieme non so se ti ricordi a Federico Lombese Volante come no beh insomma chi è che non se lo ricorda cioè chi non ricorda la radio non la sentiva eccolo qua adesso lui è così posso dire che la capigliatura di Christian mi ricorda quella di Awanagana Awanagana dai beh no Awanagana però aspetta Awanagana era riccio io non sono riccio lo ricordo anche Awanagana invece allora per rispondere al come si chiamano non si può dire spettatore come si può dire chi ci segue chi è un facebookiano ascoltatore un ascoltatore un follower un socio l'ascoltatore allora dunque è successa una cosa la dico velocemente perché potrebbe anche non interessare più di tanto però so che è stata insomma una discussione tra i fan degli Avengers per molti mesi allora io nei primi diciamo negli Avengers dodici anni fa non mi ricordo quando c'è stato il primo film degli Avengers credo un dodici anni fa ho cominciato a doppiare un attore che si chiama Jeremy Renner attore bravissimo oltretutto che ho doppiato anche in altri film che interpreta negli Avengers il ruolo di occhio di falco quindi uno dei supereroi insieme ad Iron Man a Capitano America e a tutti gli altri che cosa accade? accade che dopo boh sette otto anni la Marvel ha fatto un altro film intitolato I Guardiani della Galassia allora nei Guardiani della Galassia c'è un procione che si chiama Rocket Raccoon che è uno dei protagonisti credo unico personaggio di animazione che però è realistico e oltretutto non parla neanche con una vocalità troppo caratterizzata pur essendo un animale tant'è vero che in originale in America questo personaggio lo doppia appunto Bradley Cooper io cominciavo a doppiare quindi in un altro film questo procione poi che succede? succede che a un certo punto negli ultimo Avenger Avenger and Game i due personaggi ci stanno entrambi ma perché vedo lo schermo nero chi è inquadrato in questo momento? no quello che vedi tu non è realmente quello che trasmettiamo ognuno può scegliere il suo speaker view ah ok ok siccome non so puoi cambiarlo a piacimento siccome io non so neanche di che parlate mi tengo mi tengo quello che c'è comunque va benissimo ti sentiamo forte e chiaro questo qua è Jeremy Renner insomma che cosa accade? accade che i due ci stanno entrambi nel film a quel punto che si fa io ho chiesto di essere sostituito su Jeremy Renner con un altro collega che in altre occasioni ha doppiato lo stesso attore ma gli americani hanno risposto no le voci non si possono cambiare quindi mi è successa una cosa che capitava qualche volta negli anni negli anni 50 negli anni forse anche anni 60 quando c'erano pochi doppiatori che un doppiatore rischiava in un film di fare due personaggi ecco poi questa cosa non è più successa perché adesso i doppiatori ci sono però siccome appunto questi due personaggi li avevo fatti in due film diversi sempre io hanno voluto tenere la stessa voce per tutte e due quindi che cosa succede succede che ci sono io su due personaggi che addirittura in una scena parlano insieme quindi c'è una scena di Avenger Endgame dove Occhio di Falco parla con Rocket Raccoon quindi praticamente io mi parlo e mi rispondo questo è capitato fatti una domanda ti farai una risposta questo è capitato allora ho cercato un minimo di caratterizzare il procione perché perché insomma si sentiva che ero io ma poi in realtà neanche perché ti posso garantire che chi non sapeva di questa cosa non se ne è accorto ce l'abbiamo ce l'abbiamo in questo momento no ma siccome lui è nominato un personaggio così importante per tutti noi io capisco allora a questo punto visto che ormai siamo a mezzanotte i locali cominciano a riaprire ovviamente simbolicamente nei nostri ricordi e nelle nostre teche allora diciamo che quando tu sei entrato a Radio Cesar io mi ti ricordo che così cioè tu facevi la classifica la conducevi ecco perché quando facevi questa classifica avevi il cosiddetto ditino nel sederino perché ciao a tutti da crisi aglianzante io sono qui sai cos'è quello è veramente io dico la verità quando sento alcune cassette perché all'epoca c'erano le cassette io ne ho conservate poche quando sento alcune cassette dell'epoca io mi domando ma come cazzo mi veniva in mente di farlo trasmettere ma perché tu eri un fan di Foxy John ecco il motivo ora capisco ma no sai cos'è è che in realtà in quegli anni si conduceva un po' in quel modo capito oggi beh oddio allora dirti la verità tanto ormai le cose si possono dire partengono a più di 30 anni fa in realtà quello era un modo di fare radio all'inizio cioè proprio fine anni 70 inizio anni 80 nell'89 già era andato abbastanza questo modo sì beh sì 88 perché poi io nell'89 me le sono andate sì era già però cos'è che io sono stato un grandissimo fan di Luigi Rosica tu te lo ricordi Luigi Rosica intanto però sentiamo non c'è purtroppo poi non riesco a ritrovare assolutamente da 10 minuti da quando hai cominciato questo bel discorso che mi affascina non sono riuscito a trovare lo spot che qualche anno fa c'era di Foxy John però abbiamo la sigla e qualche secondo ce la riascoltiamo questa era la sigla dalla quale Foxy John diceva hello folks this is Foxy John sì questa cosa credo che sia entrata endemica proprio entrata in endovena per chi amava la radio in un certo senso no ti dicevo ti dicevo che io invece ero un grande fan di Luigi Rosica che faceva Radio Luna top 30 e lo imitavo spudoratamente cioè senza rendermi conto che stavo imitando uno che trasmetteva due chilometri capito e come era la sigla di Luigi Rosica vediamo un po' chi se lo ricorda chi non risica Rosica 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 esatto esatto e quindi insomma io mi sono no no ti dico ti dico è capitata una cosa veramente bella che insomma io sono stato un suo grandissimo fan ripeto l'ho anche imitato per anni era proprio il mio faro il mio punto di riferimento passano gli anni e una sera vado a casa di Giovanna Rapattoli detta GioGio che è una doppiatrice molto brava di Chieti anche lei anche se se n'è andata che era credo avesse 18 anni quando è partita oggi ce n'è una sessantina e nel 97 più o meno 98 andiamo a casa di GioGio a una cena e mi dice sai viene anche un mio amico di Chieti che fa il dentista però lui lavorava alla radio tanti anni fa chissà se te lo ricordi si chiama Luigi Rosica no vabbè no vabbè vabbè chi sei rinquefatto praticamente no no lui lui è arrivato e io però avevo a casa una cassetta con una sua classifica ok che avevo registrato all'epoca insomma lui è arrivato abbiamo cenato io non ho detto niente abbiamo parlato normalmente alla fine della cena metto questa cassetta e senza dire nulla e finito il brano si sente la sua voce e lui che conduce questo questa classifica si è messo a piangere si è messo a piangere e mi ha chiesto se gli regalavo quella cassetta no per noi prendiamo tutto per scontato no no ma lui mi ha detto regalami questa cassetta perché devi devi sapere che io facevo la radio perché mi pagavano ma a me della radio non me ne è mai fregato niente ma tu guarda e quindi io non ho conservato nulla non ho niente di anni e anni di classifiche e io quindi ho avuto l'onore di regalare al mio mito l'unico ricordo che lui quindi da quel punto però oggi è pentito perché se avesse queste cose a proposito di ricordi mi hanno chiesto un paio di amici che ho trovato nel cassetto di internet una cosa simpatica per te Christian che bello vai se mi permettete ve la condivido assolutamente vieni mi taglia però scegliete la vita scegliete un lavoro scegliete una carriera scegliete la famiglia scegliete un maxi televisore del cazzo scegliete lavatrice ma che succede? 12D ha presciato l'elettrice scegliete la buona saluta il colesterolo basso e la polizza vita scegliete mutuo interessi fissi scegliete una prima casa scegliete gli amici scegliete una moda casual e le valigie in tinta scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina scegliete di sedervi sul divano a spapolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare alla fine scegliete di marcire di tirare le cuoie in uno squallido spizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per impiazzarvi scegliete il futuro scegliete la vita ma perché dovrei fare una cosa così? io ho scelto di non scegliere la vita ho scelto qualcos'altro le ragioni? non ci sono ragioni chi ha bisogno di ragioni quando è l'eroina? permettetemi di fare un applauso a Cristo in realtà questo è un Sistian non sei un doppiatore tu sei un rapper questo pezzo qui in realtà l'ho fatto qualche anno fa ospite di Pino Insegno a Radio 24 non è l'originale del film naturalmente c'è tutta la musica attenzione Cristian non ti voglio interrompere ma noi abbiamo le mandracate qua Marco dice vi ho mandato un audio video della vecchia Radio Luna uno a chi l'hai mandata questa cosa a chi l'hai mandato più che altro e così almeno lo trasmettiamo Marco Marco Papa abbiamo in chat Marco però entra dai entra in slalom su qual è il migliore di salutare i vecchi amici? io volevo andare alla pubblicità se non vi sbaglio va bene allora posso? eccola qua eccola qua a chi è No Bello, grazie, grazie, grazie Roby Allora, dicevamo, ma chi è che ha mandato quest'audio video? Vi ho mandato dice Marco, secondo te Giovanni? Sì, sto facendo in modo di trasmetterlo abbiate pazienza Ah, eccolo qua Marco Ciao Marco Ciao a tutti Saluto anche Fiorella e Cristi Ciao Marco Papa Io non ti avrei mai riconosciuto Fatemelo vedere Io non l'avrei mai riconosciuto Perché? Ma perché sono 30 anni che non ti vedo Marco No, ci siamo visti al cinema Eccolo qua Marco Ciao Marco Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti Dovete togliere l'audio Saluto anche Fiorella e Cristi Ciao Ciao Ma è Giovanni che fa questi errori? No, no Sì, perché fa il share Flaga, flaga Ma come? Tu tiri le orecchie a tutti e poi Flaga, ragazzi Non ho fatto lo share Scusa Di chi era questo contributo di Marco Papa? Che ce l'avevi tu? Insomma Molto ti tiriamo le orecchie Hai capito? Hai capito? Guarda Posso dire una cosa Prima di cominciare Sì Dico una cosa Grazie a tutti Ciao Enrico Una cosa su quello Che state per mostrare di Radio Luna È una registrazione del 1978-77 Vecchissima Che raggruppa tutti gli stacchi di Radio Luna Non si sente benissimo Però c'è Luigi Rosica C'è penso Francesco Acampora C'è Foxy John Ci sono un po' tutti quanti E c'è anche forse Natarino Di Profio Grande Oh addirittura Di Profio Me lo ricordo bene Mamma mia Vai Music More action More fun At Moon Radio Luigi Rosica Se tu vuoi Ballare con noi Luigi Rosica Rosica Tanta musica Tu puoi ascoltar Ciò che vuoi da lui Rosica Rosica Sempre musica Non dimenticare La classifica di Rosica Rosica Tutti i giorni con Rosica 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 It's the smash hit 30 Benvenuti a Luigi Rosica Il solido appuntamento settimanale Con Radio Luna Top 30 La classifica di nuovi 30 top Più richiesti Più ascoltati Qui a Radio Luna Buongiorno Bubbling over with Luigi Rosica Last Thursday Il meglio del meglio Radio Luna Top 30 Questa settimana due nuovi ingressi Dieci top salgono Undici scendono e sette mantengono lo stesso posto Attual non è un complesso rock È il modo di vestire Young's Market La voglia di vestire diverso Young's Market Fantastico Questa è la prima parte Poi però la seconda ce la sentiamo Giovanni A me è venuta la pelle d'oca E ce l'ho ancora Che ricordi Grazie Marco Questa è la cosa bella Quando un personaggio si incarna Non per autoreferenzialità Ma per presentare anche i suoi ricordi Grazie Marco Tra l'altro io sono stato promotore Di una riunione Di tutti i DJ Di Radio Luna La facciamo alla fabbrica Forse dieci anni fa Dove c'erano veramente tutti E dove mandammo poi questo Questo contributo audio Io ho detto audio video perché Postandolo su YouTube Ho ritenuto opportuno mettere il marchio di Radio Luna Fantastico Quelle poi erano i jingle che si sentivano Su Radio Luna a Vescara Marco Ecco Puoi fare così alla maglia Per favore Ti prego No Bellissimo Buon bellissimo Grandi Grazie ancora Marco Però mi raccomando Giovanni la seconda parte Noi la vogliamo sentire Perché tra l'altro Ascoltando questo mashup Diciamo così Il termine è quello Di tutte queste cose Sentiamo veramente Proprio Il grande stile americano Che evidentemente Anzi indubbiamente Avevano ascoltato Cioè loro eri in dubbio Che qualcuno Aveva riportato Cassette dell'America O c'era qualcosa Non essendoci internet E qui hanno proprio preso Si sentiva Non ti dimenticare Che Radio Luna Era una radio In Come si dice Diciamo in franchising Non era Radio Luna Pescara Ma era Radio Luna Che partiva da Roma Sì però comunque Ciò non giustifica il fatto Che veramente Parlassero C'è un linguaggio Molto americano Ma non per modo di dire C'era proprio C'era C'era John Francis V Villa Che prima di aprire Il Foxy John Era da Pino Toma Allo Smash One E quindi Questi jingle Venivano fatti Tutti quanti Allo Smash One Di Pino Toma Sì ma infatti Infatti voglio dire A Marco Che proprio recentemente Per ragioni Che non sto a spiegare Perché non voglio annoiarvi Perché siano cose segrete Ma a noi non c'è a noi Oggi è sabato Quindi è sabato Diciamo Diciamo che c'è un progetto Radiofonico Ma si parla Da qui a Forse un anno Se riuscirò a realizzarlo Perché è una cosa Molto complessa E ne parlavo Appunto con John E John Ha tirato fuori Questi vecchi jingle Che lui ha ancora Nei jingle machine Vi ricordate I jingle machine? No Ricordacelo Non me lo voglio ricordare Cioè praticamente Erano quelle cassette Tipo stereo Che però avevano Una pista sola Che partivano subito A razzo Tu premivi il play Lui ha ancora un lettore E lui ha ancora un lettore Di jingle machine E questi vecchi jingle machine Che non si sono nemmeno Smagnetizzati Perché saranno passati 40 anni Capito? E si sentono ancora benissimo E in ogni jingle machine C'era una quindicina C'era uno di quegli spot Che abbiamo sentito Che poi lì venivano messi Uno dopo l'altro Quindi legati nel montaggio Quello che abbiamo sentito È Young's Market Cioè io l'ho inserito Perché Young's Market Ormai è chiuso Ha chiuso Da una marietta Ne parlavamo ieri sera Eh Young's Market Di Alvaro Mar Giusto anche GGS Proprio ieri ha chiuso Giusto l'altro ieri Insomma Giusto Era solo Ragazzi era solo Per dare questo contributo Salutare Tutti quanti voi Hai paura Che ti facciamo Parle due Vero? Che? Hai paura Che ti facciamo Parle due? No Tanto io non faccio Le due Beh no Anche tanto Dopo passi direttamente Alle tre Perché ci sta Lufus Ci sta Zer No No Mi raccomando Mi raccomando Ricordati di Metterlo avanti Non ti scordare Sì sì Più vado a dormire tardi Più mi sveglio presto Questa particolarità Quindi Per me Io se mi addormento Alle undici Mi sveglio tardissimo Se mi addormento Alle due Alle tre Mi sveglio alle sei Ma io ce l'ho un perché Lo sai perché? Perché sei vicky Grazie Ti voglio bene Ma tanto tanto Marco Tu lo sai Ti ho nel cuore Va bene Siamo bastardi dentro Marco Quando ricomincia La fine del mondo? Sì 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 No Uno 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 Stai Alenzo Stai Stai preparando Il latte Una minaccia Già ride No Eccolo Marco appena ingerisce il latte parte fuori di coach non si sa perché ce lo dovrà dire Marco, ma io sono troppo legato alla fine del mondo quando ricomincia? il problema penso che tu l'abbia affrontato insieme a Vincenzo proprio ieri e avevamo trovato questa possibilità proprio con Zoom di fare una cosa video che poteva essere una cosa bellissima che però ha dei problemi insormontabili perché non avete Roberto Rantucci se no tra Roberto e Gianni D'Avario non ci sono problemi tecnici allora se voi avete dei problemi tecnici noi ci possiamo privare anche di due ore di trasmissione quando volete oppure la anticipiamo quello che volete ma sicuramente io sono ai loro ordini il mio cuore è ai loro ordini Rocco Marrocca voglio dire sono Rocco Marrocca io volevo approfittare anche della presenza di Marco per ricordare i momenti in cui proprio l'ho già detto però con Marco la cosa diventa ancora più sfiziosa io ricordo frequentavo all'epoca l'istituto d'arte era sicuramente il 1981 probabilmente 82 sempre quello della foto però ricordo che la primissima volta che io scoprì voi appena poggiai proprio la la borsa della cartella diciamo lo zaino invicta e accesi la radio perché volevo sentire un po' di musica però appena accesi la radio tempo di andarmi a lavare le mani io senti sono fagioli da sgrano li trovi da Giovanni a 2000 lire al chi io l'ho sono morto letteralmente mia mamma che è successo qualcosa non puoi capire e c'è da là il partito abbiamo fatto in un periodo in cui la radio iniziava abbiamo fatto una radio che prendeva in giro il trash facevamo noi del trash prendendo in giro il trash e facendo del trash il nostro cavallo di battaglia che poi è rimasto sui nostri spettacoli il cavallo di battaglia la cosa che ha portato avanti completamente il nostro il nostro modo di fare il nostro modo di di essere comici eccetera eccetera ma io ho mai doppiato un c'è un te nel senso ho doppiato un doppiatore pazzesco un personaggio interpretato da te e sai qual è il problema che io mi ricordo che tu hai doppiato 300 pure 300 pure sì 300 sicuramente perché faceva esatto io facevo io lì ho doppiato michael fassbender quello che quello che a un certo punto dice a pedicini mio re voglio morire al tuo fianco una cosa del genere la 10.000 freca mille billy capille ecco io che dico a pedicini mio re voglio morire al tuo fiace capite è stato molto faticoso dire quella pazzola billy capille quello fassbender fassbender poi proprio billy capille ma dimmi una cosa ma tu non hai mai fatto i ridoppiaggi tipo di questi film appunto della marvel queste robe qua no perché non non sono cioè il film deve essere poi io tra l'altro rifaccio completamente il montaggio cioè il montaggio deve essere è un film diverso quello che vado a doppiare poi si si ho capito ho capito quindi quelli della marvel sono troppo troppo belli per essere smontati non che gli altri non lo siano però diventa più complicato si si ho capito perché poi da film marvel diventano film marbelle capito poi quindi Marco Marco sono linda posso chiederti una cosa io mi ricordo così vagamente abbastanza piccola però questa cosa me la ricordo che a un certo punto a Pescara a Piazza Salotto arrivo a questa notizia arrivo a questa notizia che dovevano venire a suonare gli Spandau Ballet è vero vai 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 grazie Linda ci hai ricordato questa cosa vai 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 per ricordo vai vai e questa fu una cosa pazzesca dovevamo fare una sigla della 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 trasmissione televisiva è la finita del mondo e allora lì ci venne in mente di fare una cosa eclatante stiamo parlando del 1987 o 6 non mi ricordo no no scusa perché sto dicendo era il 1984 perché stavamo ancora a Radio Mela quindi nell'84 gli Spandau ecco no puoi continuare puoi continuare vai tra l'altro Edmondo ci sposte di questo che vedete però bisogna togliere l'audio perché ecco togli l'audio togli l'audio Vincenzo da da Tony Adley e io da Steve Norman eh eh ragione e successe un casino a Piazza Salotto perché eh Radio Mela noi eravamo un seguito incredibile Radio Mela dicendo che sarebbero arrivati sicuramente gli Spandau balle a Piazza Salotto perché avevamo avuto una eh una soffiata e per questo tempo avevano montato i tecnici dell'Abruzzo un parco con un'amplificazione a Piazza Salotto che noi non siamo riusciti assolutamente a raggiungere perché c'era tantissima gente tu considera che siamo stati accompagnati dalla vera politica dalla vera delle vere gazzelle della polizia che si sono assolutamente messe a disposizione ti carico il telefono se non altrimenti si scarica e quindi quella sera lì è successo veramente un massacro è partita la musica che noi sentivamo veramente poco e niente abbiamo però fatto veramente una cosa storica ecco qua ecco la incredibile ma guardate poi le facce delle persone dietro ci sono rimasti tutti male il problema non lo sai qual è stato quando pensava che fossero realmente gli spandau perché una macchina come la ron royce che arrivava in piazza salotto quando piazza salotto era ancora percorribile con l'auto io e Vincenzo abbiamo vissuto quello che vivono realmente i divi perché le ragazze si sono buttate sulla macchina attaccate ai finestrini i finestrini erano oscuri quindi loro non vedevano dentro chi realmente ci fosse quando siamo usciti dalla macchina c'è stato prima un silenzio di tomba e poi una risata generale ma una cosa incredibile poi la gente ha capito ma i vestiti erano fai da te o qualcuno vi ha vestito i vestiti erano stati dati da regia perché troppo belli troppo e la ron royce chi ve l'ha data edmondo immaginavo una banana una banana si è passati dal delirio per un gruppo che non è arrivato alla risata e il delirio quindi per voi che comunque poi non ti dico che è successo l'anno successivo che dovevamo fare Madonna e il bambino perché c'è un video dove Madonna canta con un bambino che dovevamo fare a Chieti per l'anno successivo per il seguito delle puntate lì poi è successo un casino perché lì siamo arrivati tutti e due vestiti però alla fine siamo arrivati di corsa così come siamo arrivati ce ne siamo andati perché non ci stava il palco non ci stava l'amplificazione non ci stava niente è stata una cosa terribile che bello ragazzi ma come ti è venuta Marco l'idea di doppiare i film in quella maniera ma io Fiorera lo facevo già da parecchio tempo soltanto che doppiavo o pubblicità o il primo film che ho doppiato l'esattore no no l'esattore non è mio assolutamente non è mio Mauro ma non ce la vedevi no no l'esattore non è mio il primo film che ho doppiato è Codice d'onore addirittura 15 minuti di Codice d'onore Mauro devi mostrarci qualcosa si a proposito delle cose belle che fa regina mi scusi un signore con la faccia nera vuole parlare con il re facci entra e ricordati sempre facci entra ma tu si rufiti le onzio il re di Sparta non so se mi spieghi secondo a ricordati che gli ateniesi è una massa di cornute e di figli puttani aspetta zio Tom prima di abbiare a parlare nemmi di che hai venuto qua a Sparta a venire di vd a centine perché sennò ti piazza si vede in culo fino a Atene premesso questo che cosa sei venuto a vendere? oddio ma che cazzo mi vedi supporti ottici e articoli perfumatori ma praticamente non sarei dvd e accendere ma te l'hanno detto che cazzo facciamo la gente come te qua a Sparta ma mi sa che te l'hanno detto cioè non è che l'accidiamo soltanto prima li facciamo mangiare e beve perché l'ospite è sacro dopo la pinniamo l'opale e in non è che i coglioni ci uccano tutti qui da rubare bandiere questo invece è Fernando trita marrocchia da penne Mario taglia citrone da vasto camillo capillo 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 che cazzo avete messo avete messo la versione più sporca che esista è passata la mezzanotte quindi ma poi siamo fuori passata perché nella norcineria perché nella norcineria ci sono stati coglioni di mulo e non si può dire coglioni esatto come è il matrimonio mio Marco come è il matrimonio mio ti ricordi erano gli albori e mia madre ti voleva cacciare lui e Marco una delle prime volte nelle feste immagino a un certo punto mia madre non ci ha capito più niente perché non è che li conoscesse così bene tutte quelle parolacce che dicevano ma non è vero è venuta mia madre cacciali che dicono i moreniti no erano le pubblicità eh sì sì ma le pubblicità che facevi erano molto 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 belli sì prima non ci si faceva proprio caso buttavamo così punto e basta poi con il passare del tempo c'è stato il senno di poi bene bene bellissimi questi ricordi ancora una volta e ringraziamo Marco che comunque ma devi vedere qualche altro film il nono della giornata no 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 sono entrato soltanto per farvi per farvi vedere quel pezzo lì tra l'altro io ho mandato anche un messaggio non non sarei voluto entrare perché comunque vi stavo guardando eccetera eccetera ma poi sono entrato per salutare Fiorella Cristian Enrico Busiello e tutti quanti voi bene ma tu lo sai che la prossima volta eh tra uno spot è l'altro serio che potremmo rimandare tranquillamente visto che l'hai appoggiato molto bene per quanto riguarda insomma questi giorni eh piuttosto funesti è poco da dire tu lo sai che ci canterai una canzone di Claudio Baglioni a tua vecchia maniera tipo tipo ora che ho te compreso di allungamento di per venti secondi di assolo sì lo sai vero io non ti ho capito ci canterai ora che ho te di Baglioni è vero sì io eh ma che sembra eh tu lo facevi sempre ora che ho te ti ricordo che è il pazzo da legato è 1980 ma ti piace ancora Baglioni sì è chiaro ma come no ma come no però non è prima lo cantavo perché da giovanotto si cantava bene nelle prossime puntate vedremo tranquillamente Marco Papa e lo ascolteremo con Claudio Baglioni ragazzi continuate tranquillamente io vi saluto ripeto era soltanto un ingresso per salutare voi e gli altri grazie Marco non ti intristire però nell'andare via non ti intristire no 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 Marco metti la sigla metti la sigla è la fine è la fine è la fine vai vai insieme è la fine del mondo un programma progetto iniziale con Marco Papa è Vincenzo Lidieri tutti i giorni insieme a voi top Marco va bene ragazzi ciao Marco grazie al prossimo contributo e le prossime serate ciao Marco ciao grazie ciao bastardo con gloria con gloria questa volta Mirko c'è qualche contributo ciao ciao Marcolino ciao ragazzi c'è qualche contributo c'è solo Vincenzo agli odati che ricordava che tutto ciò che stavamo guardando risaliva ai tempi dell'apertura di Radio Luna quindi proprio giusto? eh sì primi tempi primi tempi sì sì che io c'ero io ci ho lavorato io le famose cassette di cui parlava Cristian le ho maneggiate io facevo anche la regia le dediche a Luigi Rossi a Lino Di Profio mandavo in onda la Radio Luna top 30 ero là dentro anch'io è vero Enrico? Radio Luna è con voi Radio Luna è per voi Radio Luna è con tutti noi It's Country Rockin' Western Music with the Johnny California Show un programma di Radio Luna Mitico, mitico Gianni California che non l'abbiamo risultato Gianni però dopo l'ha cambiata la sigla non fu più quella sì sì non ce l'ho a disposizione ma ce n'era un'altra ancora più bella di quella comunque era l'epoca delle cassettine no? cioè che si registravano le cassettine non solo con la musica ma anche con i programmi interi perché eh ragazzi quella era o si compravano dischi o si accendeva la radio oppure si registrava vero o no? e comunque sento che le sigle le faceva quasi tutte tutte John quella è la voce di John quella che si sente negli spot che abbiamo ascoltato un po' più giovane però insomma lo riconosco benissimo perché ti ripeto sono 30 anni che lo vedo tutte le settimane è proprio un appuntamento il mio con lui fisso lo saluti per favore dal 1990 ma tu lo conosci? eh sì eh sì te lo saluto sicuro anche perché appena potremo riuscire devo andare lì a recuperare un sacco di cose da fare perché adesso Cristian ricordi quando Gianni California stava era da 7G7 a Piazza Salotto no 7G7 lussuoso faria allora io ho conosciuto Gianni poi nel diciamo nell'87 88 quando stavo a TVQ però devi sapere che io lavorando cioè abitando a Chietiscalo e quindi lavorando nell'ambito delle emittenti di Chieti non sentivo troppo quelle di Pescara perché non arrivavano cioè tu non hai idea di cosa dovevamo fare noi per sentire Radio Luna cioè andare sul tetto con la radio per sentire come no me lo ricordo benissimo perché proprio non arrivavano perché non c'erano i punti radio sulla Maiella evidentemente trasmettevano soltanto con i punti radio di San Silvestro e quindi nel Chietino non non entravano queste radio qui quindi non me le ricordo capito non me le ricordo ascoltiamo qualcosa allora ascoltiamo Radio Luna è con voi Radio Luna è per voi Radio Luna è con tutti noi questo è Gianni California questa l'abbiamo appena ascoltata un programma di Radio Luna sì questa era parte di quella di quella cosa che abbiamo già sentito però un piacere risentire io devo dire la verità ho diciamo io non è che sono cioè sono un collezionista a volte casuale però ho una collezione particolare ma questa cosa è dovuta al fatto che c'era uno stoccaggio non ricordo dove lo comprai parlo di una decina di anni fa e quando le vidi no non ci posso credere erano buttate là e le comprai roba tipo 15 euro pensate un po' io ho le bobine originali di cicciolina in Radio Luna esattamente c'è una cosa incredibile ovviamente non avendo il registratore dei bobine e non avendo il registratore dei bobine io non ho mai sentite però ce le ho incredibile io ci ho lavorato ci ho lavorato a Roma a Roma e lei faceva i programmi quelli sexy della prima ora con i suoi cicciolini eccetera e veniva gente pazzesca per vederla perché era sempre molto così no ed era è stata per il primo periodo cos'era il 75 giusto? ma forse poteva essere qualche anno in più io ero piccolino quindi mi ricordo che già ero in effervescenze quindi doveva essere per forza effervescenze scusa effervescenze è ormonali chiaramente è naturale cioè quindi poteva essere sicuramente 78 78 posso fare una domanda al volo a Cristian Cristian scusami tra tutti gli attori che hai avuto modo di doppiare ce n'è uno in particolare che non avresti voluto fare ma che ti è stato imposto no vabbè ce ne sono tanti tantissimi ma ce ne sono tanti uno in particolare che avresti voluto fare invece che ti è rinasto qua come tu allora io devo allora ti rispondo perché sì ce l'ho la risposta allora uno che non avrei voluto fare è proprio Andrew Lincoln cioè il protagonista di The Walking Dead trovo che sia un attore veramente cane cioè non sa recitare è una bestia una bestia che ha avuto una grande fortuna nella vita perché tu devi sapere che quando hanno deciso di produrre questa serie che si ispirava a un fumetto ci volevano molti soldi per i trucchi insomma per le scenografie eccetera tant'è vero che la prima stagione è soltanto di sei puntate mentre tutte le altre sono di sedici ok allora praticamente loro si erano rivolti per il ruolo appunto di 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 Rick a Sean Penn ok il quale Sean Penn ha rifiutato credo per questioni di budget gli ha chiesto forse dei soldi che loro non si potevano permettere poi con il senno di poi avrebbero anche potuto pagarlo perché poi è una serie è una delle serie più viste al mondo e sì credo oltre 200 paesi insomma veramente una serie milionaria però in quel caso siccome si trattava di un esperimento hanno hanno rinunciato perché i soldi che lui gli aveva chiesto non non glieli potevano dare allora a quel punto hanno fatto una seconda scelta però questa seconda scelta non si è rivelata fortunata perché l'attore che appunto aveva fatto i provini e che era stato scelto ormai si era impegnato per un'altra serie sì è accaduto questo dice va bene chi c'era poi e c'era quest'attore che io avevo anche visto in qualche telefilm doppiato tra l'altro dal mio collega Francesco Pezzuli che è la voce di Leonardo Di Caprio però era un attore che faceva piccoli ruoli comunque insomma ruoli secondari e lui si è ritrovato protagonista di una serie ripeto che poi è diventata importantissima fino a guadagnare credo oltre un milione di dollari a episodio ce ne erano 16 a stagione più tutto il merchandising lui è diventato milionario però secondo me non meritava capito quello che gli è successo perché è veramente un attore scadente io non avrei voluto doppiare no sinceramente ne avrei fatto mentiriamente tanto che ti piacerebbe doppiare tanto invece un attore che io non ho mai doppiato perché devo dire ho avuto la fortuna di doppiare quasi tutti gli attori della mia generazione magari anche in un film che ne so per dire Johnny Depp io l'ho doppiato in un solo film che è Paura e Delirio a Las Vegas Brad Pitt l'ho doppiato in un solo film però sono tutti attori della mia età che io ho doppiato uno che non ho mai doppiato e che invece mi sarebbe piaciuto perché lo trovo straordinario è Edward Norton non ho mai avuto occasione di doppiare Edward Norton quindi sono questi due i principali diciamo tra quello che non avrei mai voluto e quello che invece mi sarebbe piaciuto grazie bene bene beh siamo visto che allora stiamo incalzando Cristian visto che abbiamo superato la mezza ormai da mezz'ora io la domanda a un passant così scivolosa te la voglio fare tanto è la risposta sì o no mi basta anche ma non lo so se sto sbagliando però si dice che nel mondo dei doppiatori quando bisogna fare la gavetta si entra almeno questo una volta si passa per un certo tipo di categoria di films hai già capito di cosa parlo? sì ho capito ma io purtroppo non ho avuto questa possibilità perché quando sono arrivato a Roma avevano parliamo dei film hardcore perché non avessi capito certo lo capito benissimo dicevo io non ho avuto questa possibilità mi sarebbe piaciuto anche perché chi doppiava questi film guadagnava dei bei soldi addirittura all'epoca te li davano alla fine del turno capito? cioè non si facevano le fatture te li davano neri ed erano bei soldi perché mi pare che mi raccontava proprio Pino Insegno che si guadagnavano in tre ore anche 150 200 mila lire quando un impiegato guadagnava 800 mila lire al mese quindi erano bellissimi soldi che però ripeto io purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere perché quando sono arrivato nel 90 questi film non si doppiavano quasi più però ho avuto invece l'onore tra virgolette di doppiare Rocco Siffredi ah ecco vedi che comunque ecco perché perché Rocco Siffredi in un film intitolato Romance di una regista francese faceva un piccolo ruolo dove interpretava la parte di se stesso cioè lui praticamente era un porno vivo amico della protagonista e lui tra l'altro ha recitato in presa diretta in francese non ti so dire se con un buon francese o un pessimo francese perché io il francese non lo capisco però lui oggettivamente ci avrà anche un bel cazzo ma è attore abbastanza scadente dal punto di vista recitativo direi che insomma non si può quasi guardare e soprattutto non si può sentire e che succede succede che questo film andava doppiato e lui doveva essere allineato al suono degli altri quindi anche di tutti gli altri doppiatori che doppiavano gli altri personaggi e soprattutto la protagonista che era appunto una donna e mi ricordo di questa scena che loro fanno dove i due parlano e io appunto doppiavo lui più e del meno parlo e dico che lui era amico di questa di questa donna e a un certo punto così d'amblè da un momento all'altro durante questo discorso dove parlavamo del più e del meno le dice dai vuoi che ti inculi? scusami ma sta cosa la ricordo vabbè ragazzi ma c'è stiamo parlando di non parolacce culo e camicia è anche il titolo di un film quindi non è un problema ma no ma poi mi piace perché sta cosa è arrivata così all'improvviso vabbè dai ci abbiamo un cazzo da fare vuoi che ti culi? e poi lo ha fatto credo che sia stato l'unico film in cui lui è stato doppiato perché nei film suoi ci sta lui anche perché lui non è che parla tanto agisce capito? non è che ci sta tanto da parlare e quindi questa cosa ve la ricordo perché ho detto vabbè un abruzzese che doppia un abruzzese siccome è noto che molti dei lavori che fai sono svolti dall'inglese all'italiano a livello spagnolo o sì no tutti i film di Almodovar tutte le Almodovar vabbè ma tutte tutte le telenovelas brasiliane tutte spagnole no 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 di spagnolo ho fatto un sacco di cose ma guarda che non è vero che si doppia soltanto il prodotto americano inglese certo c'è un 60 65% di prodotto in lingua inglese però poi no ci sono ci sono prodotti che arrivano a tutto il mondo ho doppiato tantissimi telefilm tedeschi ho cominciato negli anni 90 con i Derrick ve lo ricordate l'ispettore Derrick no? io ho doppiato tantissimi episodi l'ispettore Derrick e poi tanta roba austriaca tante cose francesi roba roba svedese ma anche roba appunto tanti film indiani i film di Hollywood il famoso Hollywood dimmi dimmi cara volevo chiedere io sto cercando in questi giorni di ricordarmi che film era forse tu lo sai non lo so era un film de se i cosiddetti film de se forse francese non lo so in cui si raccontava una situazione paradossale un po' come quella che stiamo vivendo noi in questi giorni tutti quanti cioè era la storia di un party in cui tutti entravano cominciavano con la solita manfrina di bicchieri piuttosto come stai che fai tu ti occupi eccetera eccetera poi a un certo punto il primo ospite cercava di uscire dalla casa e scopriva che la casa era murata cioè che l'ingresso era murato per cui tutto il film raccontava di come cambiavano i ruoli tra le persone capisci però in seguito a questo fatto che che non si poteva uscire da lì ma tu non ti ricordi per caso il film mannaggia chissà che cos'era non riesco a ricordarmelo né a trovarlo su web perché non ho gli elementi di memoria capito non mi ricordo non me lo ricordo però però ho ricordo i tanti film francesi ripeto che ho doppiato bellissimi perché c'è una filmografia francese importante sì 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 molto bene quindi capito rispondendo alla domanda l'inglese no non è vero cioè ci capita di fare che ne so i cartoni animati giapponesi per esempio i cartoni animati giapponesi ne ho fatti tanti io non li sopporto devo dire la verità queste anime che vanno tanto di moda che hanno tra l'altro schiere più che di fan direi proprio di nerd io ci ho mai capito niente però ho fatto tantissime ore di quella roba lì ecco per esempio doppiare una lingua come il giapponese è complicato perché ci sono suoni totalmente diversi dai nostri quindi replicare nella nostra lingua qualcosa che non ci appartiene per niente dal punto di vista proprio dell'energia che loro mettono loro sono molto più fisici di noi no sembra a volte che sono arrabbiati invece di stanno dicendo le cose dolcissime ecco lì nel processo imitativo diventa diventa abbastanza complicato e mi è capitato si è spenta la luce e poi cercherò di riaccenderla mi è capitato di avere qualche difficoltà sicuramente la lingua inglese la lingua francese e lo spagnolo sono più semplici ecco rispetto a suoni che non hanno nulla da spartire con noi con la nostra mentalità con la nostra cultura eccetera un attimo che vedo di riaccendere la luce bene 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 Linda a questo punto hai un contributo vero anche per questa sera ma naturalmente sì io stavo pensando quando appunto ho sentito di Fiorella questo personaggio insomma che non conoscevo scusami se dico personaggio nel senso che non stavo parlando come se fossi tra me e me e sono andata un po' a sbirciare così sul web no e ho notato tra insomma una sua carriera abbastanza copiosa di incontri straordinari eccetera eccetera mentre vediamo Fiorella con una conturbante maschera il personaggio così ho visto ho letto che lei aveva ha organizzato cioè è stata ospite con la sua mostra dedicata a John Lennon si chiama intitolata appunto Imagine You Are Your Dream You Are Your Dream esatto e quindi siccome è anche questo è il titolo anche di una canzone di John Lennon che io adoro tantissimo e così la cani vorrei dedicare questa canzone a lei e a tutti quanti ma soprattutto perché secondo me è perfetta anche per questo momento che stiamo vivendo a te la parola e la voce Linda stupendo ok imagine there's no heaven it's easy hard to do nothing to kill or die for and no religion too imagine imagine all the people living life in peace who you may say I'm a dream but I'm not the only one I hope someday you will join and the world will be as far applausi applauso bravo è alla regia ci vuole l'applauso dalla regia scusi posso? posso? Walter buonasera a te benvenuto per me eh sì buonasera Walter buonasera adesso Giovanni diciamo la conduzione perché io voglio che Giovanni in sostituzione di Bruno Barteloni abbia anche una voce in capitolo vai Bruno no ti prego già sto facendo troppo perché vi devo seguire in video devo fare già che mi ha chiamato Bruno figura va bene scusa no dai sto scherzando ecco vedi allora ecco il Bruno Barteloni abbiamo una diapositiva e dice Bruno noto diciamo cucadores nell'ambiente a me proposero di fare la sua controfigura immagino che immagino che si riferisca a un attore abbastanza famoso per un certo ortonese ecco esatto allora ricordiamo che quando si tratta di qualcuno che canta non tanto che parla e ci sono anche dei momenti morti per favore Enrico sei apparso ben due volte con un sottofondo quindi mettete per favore il mute come tutti quanti noi diligentemente facciamo grazie poi quando dovete parlare o quando avete voglia di intervenire togliete questo microfono Walter buonasera a te ben ritrovato buonasera ciao ciao ragazzi un abbraccio un saluto a voi tutti in questa giornata così strana bella e strana come va? siete molto belli visti tutti così lo lasciamo dire a Fiorella lo lasciamo dire come va dunque siccome questo è il programma del secolo e diventerà un colossal mondiale ma che dico mondiale planetario ma che dico planetario regionale quindi come vuoi che vada va alla grande grandissima ormai è una famiglia questa non è più un programma e allora vai noi dobbiamo aspettare we are family delle slage preparatelo perché we are family ha ragione Fiorella sì assolutamente 20 secondi li possiamo mettere anche dal momento in cui cantano proprio il ritornello quindi lo aspettiamo anche fra un minuto con calma lavorate sì vai vai gemello Fox poi abbiamo anche un altro contributo di Guido Carinci sempre su spettacolari concerti pescaresi se ce l'avete ecco la prossima volta qualsiasi cosa dal vivo la possiamo mettere te l'ho te l'ho va 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 quindi quando abbiamo il dal vivo lo possiamo trasmettere possiamo mandarlo anche per un minuto un minuto e mezzo quello che è insomma dai Linda nove no però a 25 ci arriviamo ecco la prossima volta mettiamo il ritornello proprio così avete il tempo di prepararlo fuori onda tranquillamente facendo per sicurezza a pezzi da 5 secondi così ormai abbiamo abbiamo la fifarella capito beh vabbè d'altronde quando quando abbiamo d'altronde a San Benedetto com'è Mirko la battuta sta parlando al telefono no più che altro Giovanni D'Addario ha messo i cecetti sotto capito in preghiera capito già lui è molto un ecclesiastico quindi ci ha messo proprio i ceci a pregare ha detto la prossima volta veni verrete chiunque chiunque verrete bannati tutte queste di strozzo no tipo vabbè insomma è successo Pino posso chiedere una cosa a Fiorella prima mi ero incuriosito di quel film quella cosa che stava dicendo era una famiglia murata in casa no non era una famiglia era un party un party organizzato da qualcuno e quindi tutti questi signori andavano in questo party capito tutti vestiti tranquilli bicchieri cose chiacchiere da bar e quindi erano dei rapporti molto superficiali tra le persone come succede in queste riunioni invece poi col fatto che questa porta di uscita è stata scoperta murata da uno degli ospiti che voleva uscire a mano a mano si è sparso un po' di panico ma anche sono cambiati i rapporti psicologici tra le persone la gente si diceva cosa che non si era detta prima cioè è tutto cambiato e secondo me è un po' quello che sta succedendo adesso perché oggettivamente adesso noi siamo tutti qui ma ciascuno a casa sua ma se noi fossimo tutti insieme e non potessimo uscire di casa indubbiamente delle cose emergerebbero che non sarebbero emerse se avessimo potuto uscire ecco ed era un film geniale diciamo che si scoprirebbero gli altarini in un certo senso sì sì infatti cadrebbe la famosa maschera dov'è? dov'è finita? eccola qua eccola vedi? parla parla fiorella che ti si vede di più no no vabbè con la maschera parla perché se no gli spettatori non vedono cioè praticamente se uno parla l'immagine non appare la tua quindi se sei muta gli altri non vedono sì e quindi parla con la maschera devi parlare con la maschera così ti si vede Pino Pino ho risolto questo problema ho trovato un'altra caratteristica di G ma vedete il regista regge e quindi regge anche in questo caso con due G e con una grazie allora io mi sono innamorata di Giovanni D'Addario ecco adesso sì capito? io vorrei spezzare in sé benissimo vai Walter io vorrei bellissima una persona molto bella si capisce che ha dei sentimenti grossi ha una una modestia insomma ha un sacco di qualità grazie cara grazie moltissimo adesso facciamo parlare Walter Walter no volevo fare una battuta cattiva su Giovanni però poi giustamente ha detto delle cose talmente belle che una battuta brutta dopo ci stava male quindi mi sto zitto no no falla falla dai vai vai grazie anche a te Walter per qualsiasi cosa fai puoi dire quello che vuoi tranquillo no no io quando dopo ci avete bisogno del momento romantico sotto voce vi racconto la storia di qua dentro praticamente dei vicini perché è una storia sai di quelle un po' un po' romantiche strappalate quindi quando ci abbiamo bisogno di quel momento invece adesso andiamo un po' più a cazzeggio vai 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 non è che ti sento siete molto belli io vi vedo in un quadro eh sì sì un pochino perciò devo parlare passavoce uè pirla stai zitto eh no però dai Walter mo ci mette la curiosità a me poi non mi fate fare il pescarese guardate che io allora ve lo garantisco io sto parlando più pescarese qua perché mi piace mi sento capito a mio agio anche perché ci guardano quelli che pescaresi quindi una volta tanto a me non piace parlare come di solito fa in negozio mi piace parlare italiano in radio allora ti racconto veramente una bella storia che sta succedendo perché ovviamente vivere questa situazione qui a Milano in casa siamo in emergenza un mese e mezzo non è proprio Walter attenzione ai problemi con il collegamento stabilisciti in un punto più a favore di wifi per favore grazie e poi approfitto per dare un'altra informazione tecnica dovete chiudere il mixer sul whatsapp attenzione perché ogni tanto arrivano le notifiche sonore di whatsapp grazie ok ok se non sapete come ritrovare il mixer chiudete proprio whatsapp vedetelo sul telefonino non sul pc o mettete silenzioso esatto e se non sapete ritrovare whatsapp paglietevi a dormire invece di raccontare questa bella storia perché un paio di settimane fa una ventina e niente non c'è audio con Walter allora Walter purtroppo ti sentiamo due secondi bene e quattro no quindi purtroppo non si è allora ti consiglio una cosa provo a scollegarmi e mi ricollego assolutamente ci auguriamo il meglio anche perché insomma sicuramente è la prima volta che succede la linea ce l'hai buona si è sempre sentito tutto grazie ci sentiamo fra qualche istante Alessio hai qualche contributo stasera oppure Langue il tuo contributo ma a parte qualche bellezza che c'è faceva già la differenza la bellezza di madre natura ma io sono ammaliato da non ammalato attenzione ammaliato ha detto ammaliato da Fiorella e Cristian e dalla tua conduzione e quindi proprio mi sono fatto una boccata proprio di cultura di facce di mondo di internazionalità allora siccome tu sei affascinato io mi stacco per 5-10 minuti così fate voi e adesso la trasmissione la continuate voi perché non dovete visearvi ok ciao ciao va bene allora Alessio secondo te io ho fatto una domanda tanto tempo fa però è stata tagliata forse perché era prima di mezzanotte allora il fascino del maschile italiano e il fascino del femminile italiano in quanto contrapposti a quegli altri a tutti gli altri ma gli italiani sono fondamentalmente almeno per quanto riguarda il mio giudizio il mio pensiero un popolo di sognatori un popolo un popolo romantico per natura forse derivato anche dalla nostra posizione geografica dalle montagne al mare e poi al fatto che siamo una penisola ci sono proprio elementi romantici che noi ammiriamo e possiamo vedere sin dalla nascita per cui questa differenzazione poi la si respira si respira e c'è questa mitologia dell'italiano amoroso dell'italiano latin lover che poi si ripercuote in tutto il mondo che poi fondamentalmente l'amore lo sanno fare tutti bene o male quindi ce lo sa fare l'americano lo sa fare l'irlandese l'inglese il cinese l'africano aspetta c'è anche un fatto di dna che non se lo possono inventare perché ad esempio gli americani sono adesso non parlo praticamente a livello fisico ma dico anche a livello psicologico sono molto non si sente un background non si sente niente invece nel rapporto con gli uomini italiani c'è questo gioco c'è questo gioco con la madre col padre c'è molto di più tra noi tra noi intendo dire fuori sono veramente noiosi gli uomini e le donne sono di una quadratura io ho vissuto parecchio nella moda mi ricordo queste ragazze che frequentavano modelli che fondamentalmente non è che erano proprio affascinati dal modo di fare dell'uomo del sud erano più ammaliati dall'americano all'aber crombi cioè totalmente addominato quindi sono poi delle età in cui si guarda altro e poi si torna a guardare qualcos'altro e nello stesso momento in cui l'italiano va all'estero e quindi le americane ci vedono come il diverso come il romantico come il persistente e quindi questo affascina in un mondo in cui forse non è presente questa forma così estrema di possedere di avere e di essere un po' ecco per citare d'annunzi un po' d'annunziani senti ma la donna invece la donna italiana rispetto alle altre donne secondo te ha qualche marcia in più o comunque ha qualche caratteristica peculiarità che la distingue la donna italiana essendo che una donna comunque abituata a un certo tipo di educazione familiare e quindi ha sempre questa questa bontà questa accoglienza che evidentemente poi si trasforma in un calore di famiglia in un calore di rapporto amoroso e poi questo rapporto amoroso che è dentro la donna italiana poi quando finisce la storia col marito rimane sempre calorosa quindi sempre effervescente come dire il mio amico nostro che ci ha lasciato in quel attimo è tornato è tornato il milanese sei pronto? no no ma brutsesissimo proprio no dico il milanese per dire colui il quale risiede temporaneamente a Milano certo vai dai vai con la storia come mi sentite adesso? eh? bene 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 mi sentite bene? bene bene io però non riuscivo a seguire il vostro discorso non ho seguito non so di che cosa stavate parlando in questo momento stavamo preparando il tuo racconto romantico sottovoce sì perché i miei vicini di casa sono due persone anziane una ventina di giorni fa uscendo per lavoro ho bussato e ho chiesto se serviva qualcosa mi è sembrato normale perché qua insomma stiamo vivendo l'emergenza già da un mese e mezzo ormai insomma poi è successo che io tutti siamo stati messi in quarantena e quindi poi non ci siamo più sentiti e insomma ieri hanno bussato la porta e senza aprire la porta ci siamo parlati volevano sapere come stavo se avevano bisogno di qualcosa perché erano andati a fare la spesa due persone anziane a me è stata una scena surreale ragazzi non so come raccontarvi o come rendervi partecipi veramente è stata un'emozione fortissima cioè bussano la porta vai e dall'altra parte ti dicono non aprire ok prendiamoci giustamente anche questa forma di protezione l'un l'altro non c'è stata porta che ha potuto impedire un gesto bellissimo di amore in un momento difficile per tutti è stata una lezione mi sono preso questo schiaffo e me lo sono portato a casa beh uno schiaffo che è una carezza uno schiaffo carezza sì oggi ovviamente come sono uscito per andare a fare la spesa è stato ovviamente più forte di me ho dovuto suonare e anche questa volta dalla porta ci siamo parlati e ci siamo ripromessi che nei prossimi giorni ogni tanto ci bussiamo sai che cosa ti propongo ti propongo posso proporti una cosa sta succedendo una cosa strana non so come spiegarvelo se tu se tu decidi di disegnare un un mazzo di fiori o un fiore e glielo metti sotto la porta secondo me sarà una buona cosa tanto che non lo possiamo comprare non lo posso fare non lo posso fare perché non so se il virus resiste lì sopra noi comunque quando facciamo una spesa riportiamo i prodotti a casa io disinfetto tutto disegna il fiore con la mucchina grande grande stanno venendo delle cose incredibili io quelle poche volte vado al supermercato a fare la spesa innanzitutto noi donne siamo diventate tutte musulmane perché siamo in genere o a volte nella mascherina oppure con sciarpe contro sciarpe eccetera e noi tutti banditi invece noi tutti banditi invece e voi tutti un uomo quindi allora uno entra così e deve e cerca di esprimere con gli occhi tutto agli altri per esempio la connivenza il fatto che vabbè siamo in questa situazione ma passerà cioè è tutto fatto così no ed è come se l'attenzione fosse più interiore assolutamente più interiore perché prima eravamo molto distratti hai notato come adesso fai caso a delle cose a cui prima non davi assolutamente importanza cioè il fatto che metà viso sia coperto già ti obbliga a guardare delle cose a cui normalmente prima non facili minimamente caso io oggi nel fare la spesa al supermercato mi sentivo dentro a disneyland cioè ero in un mondo nuovo bellissimo senti ma il tuo pusher chi è? il tuo pusher chi è? no no magari guarda di questi tempi ci vorrebbe veramente un corridoio umanitario ragazzi è un corridoio umanitario è vero è vero ognuno di noi c'è una storia condominiale da poter dire anche noi giorni fa avevamo finito il sale in questo aspetto poetico che tu narri io mi identifico perché come sono andato a bussare alla porta del mio vicino di casa salve chi è? dall'altra parte di chi è? chi sei lo figli? e quindi anche questo questo aspetto pescarese salve avremmo finito il sale vattela a comprare bellissimo è stato poetico proprio io oggi oggi ho fatto un reportage su Milano di fotografie eccetera qui mi sono incontrato con una troupe che sta girando un documentario per Netflix e ci giriamo eravamo verso le colonne di San Lorenzo ci giriamo e vediamo una baracca in mezzo ad un angolo di siepi così una baracca fatta bene tipo casa chiaramente di un senza tetto anzi col tetto fatto a modo suo e lui ci vede noi chiediamo gentilmente poi questi ragazzi comunque prima dell'intervista anche io poi abbiamo sempre offerto un pensiero e lui ci dice prego accomodatevi nella mia casa sedetevi cosa posso offrirvi che bello ecco però io vorrei approfittare di una cosa questa sera o lo state nascondendo e credetemi potete invece paventare ma io non vedo è sabato sera ma non vedo bicchieri non vedo niente vogliamo preparare aprire una birra ecco allora c'è un bicchiere Christian ma come hai detto che in questi giorni stai bevendo e stai in compagnia di amici che è questo ah lo succo di frutto ma come è sabato sera no qua ci vuole qualcosa un agenziana almeno un agenzianina un limoncello un po' di vino un bicchiere di birra qualcosa Roberto io sono in modalità safe però è sabato sera ragazzi non dobbiamo snaturare assolutamente quelle che sono le situazioni ce l'ho ce l'ho ce l'ho eccolo guarda ah vedi che c'è il bicchierozza di birra mi raccomando attrezzate io mi collego con le chat room scusami ho sovrapposto no 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 va benissimo anzi aprite questi bicchieri perché poi c'è il bicchiere di latte che abbiamo visto allora io mi allontano un attimo perché vado a prendere l'agenziana così ti dimostro che me la bevo avanti a te e questa l'ho comprata in abruzzo ma è Cristianianzano allora facciamo una cosa ragazzi no 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 attenzione 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 Giovanni la stessa cosa anche per te attenzione una proposta immediata che non potrete rifiutare attenzione allora prendete qualsiasi cosa vogliate che non sia acqua prendetevi il vostro tempo il vostro spazio e facciamo un brindisi anche con tutti gli ascoltatori in questo momento per cui mi raccomando avete il tempo io vi aspetterò poi sarò l'ultimo vado vado di caricare 20 secondi io intanto approfitto dato che sono in ufficio non sono a casa per prendere il bicchiere approfitto per lanciare il contributo di Guido Carinci sulla Cooland Gang allora mentre lo fai vado a prendere il bicchiere tutti quanti nessuno anche Mauro Giovanni dopo permettetemi devo dire una cosa a Cristian assolutamente certo certo intanto Cristian è andato in cucina quindi poi dopo il contributo io vado a prendere da bere ok grazie grazie come on quando ti ho quei vengo e Metal di cuore grazie Robert Coubello Grazie a tutti. 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 Ci rivediamo domani. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e questo è il simbolo. che vogliamo fare. c'è un contributo. a tutti. a tutti. e va bene. a tutti. ma anche come come griglia. e sbaglio. con chi prendersela. è stato uno, stronzo. però amen. e poi, sono i fatti. e tu sai, benissimo. che io, gli abruzzese. l'abruzzese. secondo me. ragazzi, affrontato, esistono delle cose, puoi farla. grazie a tutti. ma in generale, ci si è, sempre preoccupati, siamo separati. ti portava in una zona, la voglia di fare, perché se tu, tu dici, tu dici devo fare, ci dobbiamo, ci dobbiamo togliere, perché, abbiamo avuto, abbiamo avuto tutti, e non ci sono più, adesso, mi sembra che sia stata creata però tu mi devi dire quante cose produce questa film con me io mi domando i soldi che vengono mandati dall'Europa anche in Abruzzo per questo genere di cose dove vanno a finire? vengono rimandati indietro io vi pregherei tutti di non fare della politica tra noi perché non è una questione di politica una cosa vecchia, la politica è veramente inutile, la politica era una cosa che aveva un senso quando non eravamo così avanti nei casini, adesso che noi siamo così avanti nei casini, quello che ci serve è soltanto la solidarietà il sorriso, la forza la determinazione tutto quello che di positivo possiamo saccheggiare dentro di noi o dentro gli altri perché caspita dove andiamo a finire noi potremmo veramente non esserci più tra pochissimo sarà meglio che noi riflettiamo su questo perché se siamo ancora a fare politica allora siamo ancora nelle parti noi dobbiamo essere nel tutto perché ci siamo nel tutto il fatto che siamo un pianeta il villaggio globale di McLuhan adesso l'abbiamo sentito lo sentiamo nelle ossa lo sentiamo nelle paure lo sentiamo al supermercato lo sentiamo in televisione che io poi non la vedo cioè non la vedo proprio io non ho aperto la televisione da quando siamo in quarantena io non ho aperto una sola volta la televisione eppure l'ho fatta perché una cosa è farla la televisione e già è fuorviante una cosa è vederla ecco a proposito io ho anche un contributo perché ci sono persone che naturalmente nel corso dei prossimi giorni hanno un futuro assicurato quindi mentre noi restiamo in chat c'è chi ha garantito la televisione accesa con i pop corn però poi straordinariamente si è ritrovato un biscotto in bocca però senza polpa attorno perché io resto a casa dipende anche come ci stai ecco e questa è una però sono felice sono felice che vedi a volte dare dello stronzo a qualcuno è bello perché genera una discussione anche utile vedi l'altra cosa carina l'abbiamo bene Paolo Paolo Sala dai che cosa vogliamo fare di bello nel frattempo se ci sono uomini della notte e don ecco che cos'è siamo individualisti se noi ci guardiamo il nostro orticello praticamente io l'ho proprio sperimentato come dire l'ho visto mi è dispiaciuto molto perché in realtà sono sempre occasioni che perdiamo di crescita tutti bene allora invitiamo anche tutti gli ascoltatori che sarò ordinariamente anche se questa non è stata un'eccezione se volete entrare in chat visto che è sabato sera la notte è ancora giovane passeremo di colpo dalle 2 alle 3 ma la facciamo cantare scusa ma possiamo ascoltarla chi? chi? è la nostra amica ha già cantato oggi ha già cantato ma io c'è tanta roba ma linda allora adesso te lo dico in diretta tu non devi aspettare che te lo diciamo devi essere tu che devi proporre se no cartellino giallo da parte dei giovani così almeno vado veramente a letto sono più contento ma insomma volete che ci ricantiamo insieme? no sei tu che devi non devi proporre tu hai hai dei documenti e dei dei contributi quindi vai come vuoi come vai vai tu vai bene when I was young it seems the life was so wonderful a miracle oh it was beautiful magical all the birds and the trees would there be singing so happily oh joyfully oh playfully watch me but it sent me away to teach me how to be sensible illogical or responsible practical and they show me a world where I could be so defendable or clinical or intellectual cynical there are times when all the words asleep the questions run too deep for such a simple man won't you please please tell me what we learn I know it sounds absurd please tell me who I am who I am who I am who I am wow bravo bravissimo bravissimo vabbè ma da 25 secondi siamo passati a 12,2 intanto ha chiamato l'amministratore di condominio esatto a proposito di vicini veramente un minuto di raccoglimento per quelli di Linda perché stanno vivendo un momento difficile perché l'1,40 comunque però devo dire che sono fortunata perché a fianco a me ci sono delle persone che cantano c'è una cantante in particolare ho capito ma pure loro ma parlando di strumenti musicali c'è chi la chitarra che ci sono anche altri che trombano quindi chiaramente con la tromba intendevo visto la fascia protetta visto l'orario cambio nome come Fiorella in effervescenti sono sempre quelli effervescenti sì esattamente allora ricordiamo che siccome Fiorella ufficialmente farà parte dello staff di Eurist in Chat perché io già lo so che sarà frequente noi la seconda parte dei suoi incontri storici la faremo naturalmente in un altro giorno quando vuole lei non ci frega niente non ci frega niente noi dobbiamo stare insieme e divertirci punto Fiorella veramente è una piacevole riscoperta bello l'occasione insomma di ascoltarla qui veramente bellissimo grazie però vi voglio far vedere una cosa che ho trovato su Facebook di Fiorella ma ti faccio vedere una cosa che ho trovato aspetta un attimo che faccio sce sce mi vale portare il plane lo so perso si trova la bottiglia della birra hai messo l'audio? si si andata va a cavallo arriva ciao Renzo ciao a voi ascoltatori dell'altra domenica io sono qui al circo americano a Roma il circo americano è un circo fatto da artisti che vengono dall'Europa dall'Africa anche dall'America e artisti che sono di 14 nazioni però sono diretti da un italiano della famosa famiglia Togni e da uno spagnolo quindi praticamente di americano c'è il produttore i soldi insomma umani e anche i costumi ma che bravo questa è la cosa posso dire una cosa ma tu l'hai presa questa cosa io non l'ho vista più ma io ho le mie risorse Fiorema ma vuoi capire a me tu ma tu devi sapere che quella cosa era iniziata con me che stavo il servizio iniziava con me che stavo in campo stretto si vedeva solo il viso facevo l'introduzione quando si allargava si scopriva che ero stesa sotto la zampa di un elefante che stava sospesa e c'erano tutte le mie amiche anche Maria Carla eccetera dicono oddio Fiorella quello la schiacciano in effetti sono dei coraggi che uno ha sulla scena perché si trascende uno dimentica il vero pericolo cioè non lo so adesso puoi mettere il tuo curriculum ma che sei stato pure al circo esatto Roberto scusami in qualsiasi corso di comunicazione in cui qualcuno dovesse spiegare come si fa uno stand up in televisione prende questo filmato e fa vedere il massimo della difficoltà perché la conduttrice è a cavallo non fa un minimo errore guarda perfettamente in camera la scena viene bene e al massimo delle difficoltà ha un animale sotto poi oltretutto e ha il radiomicrofono in mano non una pulce come potrebbe avere oggi cioè è il massimo della difficoltà in quel momento allora vediamo qua anche qualche attimo di questa trasmissione di cui parliamo da tre cioè già l'abbiamo visto un pezzo però vogliamo vedere cominciare già la sila di questo storico programma dove ha partecipato ricordiamo la nostra ospite New Entry che sarà perseverante e quindi ritornerà signore La Gentile noi siamo contentissimi a nome di tutto lo staff ovviamente di Io resto in chat vediamo qualche porzione di questa storica trasmissione vivo e musica buona nonché di tanti giochi quiz e super quiz pari sciolti a pacchetti nonché d'altro l'altra domenica è una realizzazione di Ugo Porcelli con Fabrizio Centamori già tolto? sì 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 non possiamo ma perché? qua non c'è il copyright Giovanni no 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 perché su Tarzan pensavi ci fosse Tarzan non era quello originale era quello rifatto da loro io non posso rischiare perché se no perdiamo tutta la trasmissione ci sono tantissimi ascoltatori in onda ascolta Walter scusami quando tu qualche volta alzi l'occhio e guardi la camera ci fai vedere gli occhi perché stai sempre occhi bassi ahhh però sei uscito di campo aspetta un po' più basso esatto ma sai vuoi fare hai visto quando è stata tecnica sei uscito fuori campo occhio occhio a chi parli vabbè dai in realtà mi concentro molto di più sull'ascolto che non su su quello che in realtà siamo radiofonici sì siamo tutti quanti radiofonici di base per esempio ogni tanto quando sento troppo silenzio da parte di Christian mi preoccupo perché lui ci lavora con la voce capito quindi vuole a star risparmiare no ma posso stare per mandare un'altra bomba capito che mi sto mi sto mezzo addormentando perché mi sono alzato troppo presto era tipo l'una e mezza capito quindi adesso comincio ad essere stanco perché sono cambiati tutti i miei ritmi in realtà io che sono uno che va a tremila cioè che veramente si alza le sette va a dormire a luna di notte senza fermarsi mai poi nel momento in cui mi fermo riscopro il vecchio Christian cioè quello che da adolescente dormiva sempre fino a mezzogiorno cioè non è cambiato poi nulla in realtà cioè sono cambiati soltanto gli impegni e quindi mi devo alzare per forza e devo fare per forza le cose ma vi posso giurare che io in questi giorni sto bene proprio fisicamente io per esempio soffro un po' di pressione alta non ho la minima che è un pochino alta in questi giorni io sto benissimo hai presente proprio 120-80 proprio da manuale di anatomia cioè proprio perfetta e un'altra serie di cose vi stanno succedendo per esempio nonostante questo mangiare e questo bere non dico in maniera esagerata però non mi sto gonfiando non sto ingrassando cioè non sto producendo cortisolo che è il famoso ormone dello stress che ti gonfia la pancia poi in realtà sembri grasso ma in realtà sei soltanto stressato quindi tutto sommato devo dire che questo periodo mi serviva cioè mi sto accorgendo come passano i giorni che questo periodo mi serviva perché io nei weekend vado sempre fuori che sai che io e Roberto Pedicini poi insieme ad altri colleghi abbiamo scuole di recitazione di doppiaggio in giro ormai per tutta l'Italia perché stiamo in sei città quindi il weekend si parte o è un treno o è una macchina o è un aereo durante la settimana lavoro dalla mattina alla sera mi sembrava che quella fosse la normalità invece la normalità mia è quella di una volta cioè del Christian che dorme la mattina capito che magari si sveglia pure alle 8 perché deve andare a fare pipì poi si rimette a dormire e non si sveglia sai qual è il problema il problema è che in casa mia tu la mattina non dormi perché sai che lavorando con i documentari essendomi oltretutto appassionato praticamente la tua voce sta sempre dentro casa mia quindi tu dormi la mattina ma stressi comunque a noi ma tu non accendere la televisione io per esempio quando in tv sento la mia voce cambio cambio che sia un documentario che sia una pubblicità ormai è talmente familiare cambio 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 mi voglio sentire ma soprattutto io per esempio vedi io non la straordinaria bellezza del tuo lavoro questo no vabbè però però è un lavoro in qualche modo nella vita della gente però dico è un lavoro che ti assorbe talmente tanto che a volte non ti accorgi che stai proprio esagerando e soprattutto io per esempio ecco la sera non vedo mai cose dove si recita non voglio sentire gente che si recita a cominciare da me cioè sento più cioè seguo che ne so programmi di politica mi vedo formiglie mi vedo ecco allora una provocazione simpatica queste qua che litigano in continuazione non ti piacciono le persone che recito però allora no 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 attenzione non è che non mi piacciono le persone che recito la sera dopo dieci ore di doppiaggio non voglio sentire gente che recita allora invece noi ti vogliamo far vedere una classifica di cose che non esistono più non voglio dire qual è la categoria se no l'anticipo è la Deu Power Remmo in questo caso ecco lo mostriamo immediatamente e godiamoci qualche istante che non ha copyright trasmettiamo TG2 Ring incontro in diretta con un personaggio dell'attualità intervistato dai giornalisti delle TG2 va ora in onda fuori programma con molte attenuanti della serie i casi archiviati la Rai è stata autorizzata di radiare questa trasmissione anche a colori anche noi la trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali sul secondo a titolo sperimentale anche a colori con il sistema PAL cioè io dico che questa classe che ormai non esiste più veramente eh come erano a livello di edizione Cristian Pino però hai tolto il filmato così giustamente ciò che l'hai detto no ne voglio ancora sperimentale sul secondo canale in versione PAL dicevo che come edizione erano brave anche perché le annunciatrici Rai erano costrette a fare un corso di edizione non soltanto di edizione italiana ma studiavano anche la edizione straniera quantomeno delle lingue che venivano usate di più tipo l'inglese il francese il tedesco perché poi quando pronunciavano i nomi degli attori dei registi dovevano saperlo fare questo lo so perché una mia amica che ha fatto un'annunciatrice e che adesso ha quasi 80 anni mi ha raccontato di quasi un anno di studio prima di poter cominciare ad annunciare vabbè sono cose perdute che non si usano più sono cose che non si fanno più nell'altra sera a proposito di questo pensa che mi sono visto io avevo un cofanetto comprato già anni fa che però non avevo mai avuto il tempo di vedere mi sono sparato tutte queste cinque ore una dopo l'altra ritratto di donna donna velata ragazzi la colonna sonora è ancora da brivido sì quella di quella di Rizzortolani è bravo e ho letto perché dentro questo cofanetto c'è il libricino che ti spiega che praticamente questo sceneggiato fece 13 milioni e tu ti credi chi non ce l'ho individui nel 1976 perché c'era stato il primo e il secondo e vedevano tutti quello e vi ricordo che questo sceneggiato mi colpì in una maniera pazzesca all'epoca Nino Castelnuovo e Daria Nicolodi la parapsicologia le sedute spiritiche cioè praticamente Daria Nicolodi era Mary Strip per me rivedendo il tutto beh devo dire che ci ho ripensato che noi ci accontentavamo non erano così straordinari però erano semplici erano cose belle perché erano semplici e appunto pensare 12-13 milioni di ascolto uno sceneggiato cioè oggi sarebbe impensabile ma all'epoca ripeto c'era solo quello e la gente quello guardava Christian posso permettermi di farti qualche domanda tecnica anche a favore dei nostri ascoltatori ecco qualche consiglio ai pescaresi agli abruzzesi per migliorare la loro dizione il loro orare in qualche maniera ti ripeto io non credo che la gente abbia bisogno di curare la dizione perché poi non sono un fanatico di queste cose prima stavo parlando del mio lavoro e quindi ho spiegato che nel mio lavoro purtroppo non puoi non parlare bene perché il prodotto è straniero e quindi bisogna dargli un'identificazione che vada bene dal nord al sud del paese se vogliamo entrare nel merito la difficoltà non è tanto quella di dire cosa invece di cosa di dire nove invece di nove o che ne so io il problema sta nella musicalità e la musicalità è qualcosa che tu non ti accorgi di avere io quando prima parlavo delle vecchie cassette dell'epoca di me alla radio a parte che secondo me non ero neanche bravo e ripeto hanno avuto molto coraggio quelli che mi hanno fatto trasmettere ma soprattutto io parlavo male ma non me ne rendevo conto io ho cominciato a renderli conto che non parlavo bene quando a radio flash Gianfranco Valli Elia Agliezzi mi ricordo Riccardo Sprecacenere che si occupava delle pubblicità che si registravano a tvq ha cominciato a farmi notare che avevo dei difetti di lezione però questa cosa qui per quanto io l'abbia migliorata quando poi sono arrivato a Roma ancora ce l'avevo perché ce l'avevo perché quando tu sei attorniato da gente che non parla bene ma parlano tutti male tra virgolette nessuno si accorge dell'altro quindi cambiare il modo di parlare significa imparare un'altra lingua e lo puoi fare soltanto se te ne vai se tu vai via da quel posto e non parli più il dialetto e inoltre cominci a sentire dei suoni diversi io perché ho migliorato la mia edizione a parte il fatto che appena arrivato a Roma ho cominciato un corso eccetera però poi la verità è che ho cominciato a registrare quei suoni giusti che i grandi dell'epoca del doppiaggio mi facevano sentire all'interno delle sale io ho avuto la fortuna di lavorare con Pino Locchi con Ferruccio Amendola con tanti che non ci sono più che però io ripeto per anni ho frequentato ecco quando io sentivo loro registrando capito dentro la mia mente ho cominciato a cambiare ma il tutto è avvenuto in maniera diciamo importante soprattutto perché non c'erano più abruzzesi intorno a me e quando io suonavo in abruzzese me lo facevano notare quando tu vivi in una comunità che suona tutta allo stesso modo è molto difficile capito cioè è un esercizio molto 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 complicato quindi non c'è tanto una soluzione cioè dovresti stare lì a imparare un'altra lingua ed è una cosa molto difficile per esempio il pescaresi ha le vocali molto aperte ah perché c'entrano le mosche in bocca quindi questo è molto difficile togliercelo però la stessa difficoltà ce l'hanno i siciliani ce l'hanno i veneti io per esempio vado a Padova a Padova hanno nel nord ci sono dei suoni diciamo più gentili rispetto ai suoni del sud che sono un po' più grezzi però anche a Padova parlano in questo modo hai capito Pino io non capisco come mai tu dici ma magari parlassero così io andavo a Rovigo non me ne vogliono eventualmente allora attenzione allora attenzione se tu sì sì certo se poi tu parli no no vabbè quello poi è anche un atteggiamento certo però poi un conto è il Veneto stretto io il Veneto lo conosco perché mia madre è friulana però di un paese di diciamo dove c'è una comunità di parlata veneta quindi lo conosco benissimo e lo parlo benissimo anche perché con mia madre io continuo a parlare veneto abbiamo sempre parlato veneto quindi quando parlo con lei parlo è però la musicalità ripeto loro ce l'hanno quelli che sono molto inficiati ce l'hanno talmente grave che è praticamente impossibile da eliminare ok ma non se ne rendono conto cioè tu vai in un bar la mattina in Belgio senta mi faccio un macchiattone signora allora adesso voglio prendere anche una pasta mi faccia vedere un attimo e loro pensano di parlare l'italiano capito giusto ok questo però questo però ripeto succede appertutto succede a Milano succede a c'è un altro elemento secondo me importante che penso che noi quasi tutti radiofonici abbiamo percepito e cioè quando tu cominci a sentirti in cuffia e ascolti la tua voce ti fai generalmente schifo io mi facevo fortemente schifo cioè sentivi una voce che non aveva una timbrica non aveva non aveva niente non aveva non aveva quindi una cosa è parlare una cosa è ascoltare allora forse un consiglio piccolo che si può dare è quello di di registrarsi e ascoltarsi assolutamente assolutamente ti fai schifo da solo non te lo dice un altro e allora sei tu che decidi di entrare in un regno diverso e anche anche la timbrica della voce si cambia cioè tu puoi benissimo modulare la voce in maniera tale che abbia medie alte basse mentre casomai sei di partenza una voce stridula oppure una voce molto bassa però la puoi fare come ti pare la voce quindi se tu ti ascolti e questo lo sa benissimo Linda perché canta lo sappiamo noi che abbiamo fatto radio come partenza quasi tutti quindi ascoltare per me Giovanni è un grande consiglio per tutti assolutamente no no hai ragione soltanto che non basta nel senso che tu ti ascolti cominci a sentire quello che non va però hai bisogno di qualcuno che ti corregga capito scusa allora c'è puntualmente una persona che in chat perdonami non volevo allora dice Alberto Morana ciao Alberto grazie per il tuo contributo dice non è vero i siciliani siamo caldi noi siciliani siamo caldi ma non vuol dire un cazzo ha detto ha detto una cosa che non significa un cazzo di niente capito io vado a Palermo a fare lezioni ai ragazzi di Palermo e il suono del siciliano poi che sarà anche differente tra Palermo Catania Caltanissetta non lo so perché non riesco nemmeno a distinguere però c'è questo modo qua di parlare questa è una musicalità che sia calda che sia fredda che sia sdella che sia cicciotta è comunque sbagliata rispetto a un suono neutro capito e quella cosa lì non va vantata se vuoi fare certo è stata imitata in tutto il mondo perché collegata poi a oggi a serie televisive vedi Napoli con Gomorra oppure Don Vito Corleone la saga del Salve comunicazione di servizio sono le tre ufficialmente le tre esatto attenzione io sono affascinato da Cristian anche perché tantissimo ragazzi io devo andare a fianco a lui personalmente per ascoltare le sue parole mi preme fare l'ultima domanda poi non ti scoccio più quanto influisce la psicologia di una persona nell'addizione nel saper ben parlare tra virgolette la psicologia di una persona la sua mente i suoi pensieri una bella domanda in realtà ma allora ci vuole apertura mentale cioè mettersi a fare la difesa del proprio dialetto come ha scritto questo ragazzo guarda che noi in realtà siamo caldi non ha senso bisogna accettare il proprio limite ok se non hai una mente aperta e quindi una mentalità che va un pochino oltre non ce la potrai fare mai io mi ricordo che quando abbiamo fatto io e Roberto Pedicini negli anni tanti provini anche qui a Pescara sono venuti dei ragazzi che parlavano malissimo e nel momento in cui ve lo facevamo notare anche sorridendo anche scherzando alcuni ti davano come risposta me cioè come a D io sono abruzzese quindi lo rivendico ok però purtroppo questa rivendicazione è inutile rispetto a un mestiere che chiede altro capito quindi diciamo che psicologicamente tu ti devi ti devi un po' staccare da quelli che sono i dettami del campanilismo ecco mettiamola così ti devi per forza scostare perché se non lo fai non cominci mai dopodiché ha ragione la signora nel dire che ascoltandosi ci si aiuta molto però ripeto è un lavoro lungo è un lavoro di anni ed è per questa ragione che quando vengono le persone grandi noi siamo sempre molto chiari cioè spieghiamo che a 50 anni è abbastanza improbabile che una persona riesca a cambiare il suo modo di parlare perché ha una sedimentazione di lungo periodo capito di cose sbagliate rispetto al ragazzo di 18 ricordavo quando ho iniziato la mia carriera radiofonica che ho messo in atto anche qualche consiglio di questi che stai dando i miei amici mi odiavano mi odiavano vabbè poi ci sta anche questo aspetto guarda io lo devo dire onestamente che c'è sempre il coglione che ti prende in giro infatti noi ai ragazzi diciamo voi ve ne dovete sbattere di quello che dicono gli idioti cioè se voi siete venuti qui per fare un percorso che chiede come diciamo elemento principale tecnico perché poi non c'è niente di artistico nell'imparare a suonare bene cioè la parte artistica riguarda le emozioni ed è una cosa diciamo successiva intanto però devi imparare a parlare bene se quando tu ti sforzi per parlare bene uscendo senti qualcuno che ti prende in giro allora a quel punto ti ributti sull'abruzzese perché ti vergogni e perché ti senti ridicolo ebbè purtroppo non hai il coraggio che serve invece per affrontare una situazione del genere che richiede ripeto un impegno importante lungo e che va al di là di tutte queste di queste inutili chiacchiere di questi di questo stupido prendere in giro grazie Cristiano restituisco altre domande ai conduttori ragazzi perdonatemi con tutto il cuore veramente ma sono crollato sono arrivato non ce l'ho Walter grazie alle prossime anche perché già dopo due tre volte sei di casa dai un buonanotte agli ascoltatori però prima di andare a dormire ragazzi siete fantastici una bella non a noi agli ascoltatori una dedica un pensiero tu sei un poeta guarda in macchina ma a me state a dire sì sì a te a te poeta io sì dai che lo sei beh vi volevo dire che le due immagini di ieri che ci ha regalato la giornata di ieri secondo me sono state bellissime due immagini potentissime cioè Mattarella che si riaggiusta i capelli ragazzi ci dà un'idea di leadership che non ci dobbiamo dimenticare uno che si sbaglia si ferma chiede scusa ricomincia ma che bella umanità e quell'altro Papa Francesco che ha fatto una cosa secondo me pazzesca io non sono credente ma se c'è un dio Francesco quello riesce a parlarci tranquillamente cioè è l'unico forse che riesce a parlarci è stato un momento secondo me di impatto come dire proprio di spiritualità che secondo me ci serve il fatto di fare 15-20 minuti di televisione in silenzio finalmente un attimo di silenzio per una volta è stata la televisione la comunicazione al servizio della spiritualità e non il contrario quindi non c'erano bisogno di quei tempi è stato un attimo fantastico quindi al di là della religione anni 60 al di là di tutto quello a livello inconscio lui ha fatto passare questa comunicazione che ogni tanto fermarsi e starsi insetti serve ci ricollega ci fa bene quindi nella sua semplicità ha mandato un messaggio pazzesco quindi la giornata di ieri ragazzi è stata una meraviglia oltretutto un'immagine che rimarrà sicuramente alla storia non si ricorda un papa che da solo in una piazza San Pietro vuota fa una cosa del genere io però non sono sicuro che questa esperienza ci cambierà purtroppo sicuramente delle cose cambieranno sicuramente delle cose cambieranno soprattutto dal punto di vista proprio del lavoro abbiamo scoperto che da casa possiamo fare molte più cose di quante non se ne sono fatte fino ad oggi però temo anche che poi se si ripartirà il fatto di dover correre forse anche più di prima per recuperare il tempo perduto ci farà dimenticare in fretta questo momento invece è importante per la riflessione non sono molto fiducioso che ti devo dire comunque si passa dal sacro al profano o al profetico quando un Lorenzo Melatti scrive nel frattempo Mischting attirà una partita del campionato e del Nicaragua e certo perché noi non abbiamo più il campionato italiano adesso si va anche in Nicaragua quello è un tossico cioè nel senso anche quello è una forma di droga no woman no cry anche per tutti i tifosi dovrebbero fare adesso un corridoio umanitario c'è gente in Italia che si sta per tagliare le vene perché non può vedere la partita finalmente abbiamo scoperto quali sono veramente le droghe in questo paese beh oddio Walter forse che il calcio fosse una droga non era tanto da scoprire lo sappiamo proprio certo che anche anche questa è una cosa che non si sa come andrà a finire perché se si continua forse il campionato dovrà essere annullato per esempio quello di rugby è stato annullato guarda chi non ama il calcio proprio al di là del non me ne frega ma c'è una sottile una fragrante una fragrante una donna interviene sul calcio che è quasi improbabile anche perché non è che sono pratica però se faranno mai le partite virtuali giocatore gioca per conto suo a casa sua l'altro giocatore gioca per conto sua però c'è un software che stabilisce qual è deve essere il team e anche qual è il gioco effettivamente c'è già con la playstation oppure con i giochi da guerra però deve essere deve partire dall'uomo capito cioè l'uomo fisicamente corre fino a un certo punto e c'è il computer serve solo per registrare quello che realmente succede non per simularlo o per sostituirlo e come stiamo facendo noi noi sostituiamo la serata in casa in cui siete tutti quanti invitati appena usciamo a venire qui a mangiare qualcosa insieme a me ma la sostituiamo con il virtuale abbiamo fatto anche un brindisi reale però virtuale nel senso di cin cin esatto esatto però voglio aggiungere che tutto sommato siamo anche abbastanza fortunati pensate se questa cosa fosse accaduta negli anni 70 mamma mia vi ricordate degli anni 70 degli anni 70 per esempio ricordo ricordo la crisi del petrolio quando la domenica non si poteva non si potevano usare le macchine noi c'erano le strade vuote intanto salutiamo Remo Di Pasquale che si è appena collegato è un nostro gradito ospite che ci ascolta buonasera a tutti ciao Remo buonasera buonasera sono un grande fan di Cristian e di Roberto quindi per i cin grazie grazie seguo tutti i suoi film doppiati giustamente seguo anche un ciclopedia del doppiaggio su youtube di Gerardo di Cosa e quindi l'amico Gerardo l'amico Gerardo e quindi mi piace molto quando sento la voce di Cristian ecco questo è Cristian grazie ecco diciamo risposta a Cristian Jansante che dice che cosa sarebbe successo negli anni 70 ecco io ho già la risposta questo sarebbe successo senza le lamette dammi una lametta che mi taglio le vene avremmo trovato una soluzione avremmo trovato una soluzione come è sempre stata si il bricolano vabbè ma tanto avevamo la selezione dal Raiders Digest quindi ci avrebbe aiutato di sopravvivenza ragazzi oggi oggi però era assolutamente insospettabile che gli italiani in 3-4 giorni potessero d'improvviso chiudersi in casa e non uscire ma tutti sì hanno avuto mille motivi per farlo per non farlo però che da un giorno all'altro si è cambiato così lo scenario è veramente fantapolitico fantascientifico surreale totalmente surreale sì inoltre inoltre attenzione che questa situazione non la stiamo vivendo soltanto c'è il mondo che si è fermato c'è il mondo c'è il mondo che sta cazzo e oltre abbiamo avuto un mese di marzo adesso vabbè ci sono un paio di giorni c'è un po' di pioggia perlomeno qui a Roma un giorno ci racconteremo e da voi c'è stata anche la neve mi pare c'è stata anche la neve cosa ci racconteremo un giorno Walter un giorno ci racconteremo che in questi giorni che sono assolutamente straordinari noi eravamo qui in qualche modo quindi vabbè comunque rispondendo ancora al fatto degli anni 70 a parte della mente la battuta buonanotte ragazzi buonanotte Walter a presto ciao grazie a presto io direi che gli uomini avrebbero usato quello che tra l'altro stanno ancora usando allora partite a carte il vecchio a scopa a scopone briscola 3-7 ramino scala 40 ma basta un paio di persone 2-3 male partite ma ci sdraiavamo poi le donne a modo loro al di là delle classiche cose che si usano ancora per chi fuma sigarette eccetera avrebbero preparato al di là della cucina anche questi belli uncinetti ricordo mia mamma mia nonna queste belle cose dice avrei trovato finalmente il tempo di fare una coperta che dovevo fare che poi non ho più fatto il papà o il nonno avrebbe preso quella che in abruzzese non posso chiamare perché pezzo di legno non mi piace è stahiella avrebbe preso una stahiella e avrebbe cominciato a scolpire a creare magari una statuetta un utensile un qualcosa quindi chiaramente come dite già voi negli anni 70 ci saremmo 60 70 sì è il rapporto tra le persone che sarebbe mancato però in qualche modo adesso noi vedi come stiamo facendo noi ma stanno facendo in tanti devo dire che già questa settimana sono stato ospite di alcune chat anche di colleghi che fanno la radio eccetera e questo non sarebbe non sarebbe accaduto quindi comunque il rapporto umano anche se a distanza continua ad esserci e in un'epoca come quella sì ci saremmo chiusi in casa avremmo fatto quello che dici tu ma la comunicazione con gli altri sarebbe venuta meno e io penso invece che questa cosa sia utile cioè il fatto di esistere non di esserci anche se stiamo chiusi dentro le nostre case bene noi siamo arrivati ufficialmente alle 3 e 13 abbiamo battuto tutti i record con il beneplacido del cambio del diffuso però anche se eravamo le due abbiamo comunque credo battuto tutti i record da che siamo da sette giorni anzi oggi è l'ottava puntata e l'ottava puntata di io resto in chat ma noi vogliamo dire una cosa voi potrete sicuramente dire ma no perché continuiamo ma io vi conosco se noi vogliamo continuare essere qua se soprattutto vogliamo che Cristia Jansante sia possa tornare magari fra qualche giorno non certo domani altro noi dobbiamo darci un taglio e ci dobbiamo salutare e quindi noi ci ripromettiamo con l'augurio che possa essere così non ti vogliamo strappare una promessa perché tanto da Fiorella già ce l'abbiamo Cristian tu sei di casa e quindi noi tu avvisami nel pomeriggio così mi organizzo ma tanto questo è bello visto Marco commentato io non ho un cazzo da fare ma benissimo non ho un cazzo da fare allora ospite fisso certo allora ospite fisso te in mente Cristian dai ecco bene così mi chiamo anche Roberto dai anzi no ti invitiamo a contattare Roberto ma Roberto io l'ho sentito anche ieri quindi non è che non lo sento ma Roberto è un mio grande amico pure lui sta chiuso sta chiuso in casa e l'unica cosa che fa però la sera va a Radio Freccia perché lui fa una diretta tutte le sere in questa radio dalle dalle 20 alle 22 e quindi ha un motivo per uscire perché è autorizzato dalla alla Verdone c'è Avistola e Portodarmi Avistola e Portodarmi ecco qua dopo la diretta dopo la diretta dopo la diretta dopo la diretta diciamo le 22 vorrei vorrei una richiesta siccome stiamo per chiudere io vorrei che Linda ci cantasse una ninna nanna qualunque ninna nanna qualsiasi tipo di ninna nanna una ninna nanna sì da quella dei Beatles a qualsiasi altra insomma vuole per esempio in preparata la faccio la faccio delicata ok ok This it was, this it was, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. Grazie Linda. Ci voleva, ci voleva. Noi abbiamo anche un contributo, visto che ce l'ha chiesto anche Loredana, dopo una bellissima versione a capella di Linda Giuliani, anche per questa sera ormai è entrata in piena partita, noi abbiamo anche un'altra ninna nanna molto reggae. Un augurio che possiate trascorrere il resto della notte con voi stessi, con la persona che amate, con tutti i vostri cari e naturalmente anche con i vostri non pensieri, che i pensieri possono sicuramente diradarsi come le nuvole che se ne sono andate dopo tanti giorni di pioggia. Noi però intanto vi promettiamo una cosa, di tornare domani, di tornare né più né meno come questa sera, se vi siamo piaciuti noi vi ringraziamo, anche perché siamo una piccola eccezione in un mondo di ripetitività, di televisioni che trasmettono sempre di rimbali, soprattutto di telegiornali e polizie, quindi chiaramente noi per quanto ci riguarda offriamo quel tocco di abruzzesità, l'abbiamo detto, di pescaresità e tutto il resto ecco Roberto che salutiamo virtualmente. E questo è con mia figlia, siamo incontrati al supermercato e siccome mia figlia aveva tutte le foto con i cantanti che gli ho fatto vedere a Roberto, allora lui mi ha detto oh cavolo, allora ti devi fare pure la foto con me, pure io sono famoso gli ha detto, ma tu chi sei? E con questa bellissima immagine veramente simpatica che poi contraddistingue anche il nostro modo di essere, il nostro modo di appartenere a questa trasmissione dalla prima volta, noi abbiamo fatto il giro di Boa ufficialmente. Mi sa che sei rimasto con lo schermo qui. Sì, intanto chiedo a Mirko di fare un giro di saluti a chi ci ha scritto. Sì, dalle nostre chat abbiamo Giovanni di Bella Junior che vorrebbe cantare con noi, quindi spero che presto si unisca alla nostra chat e dal vivo ci canti una canzone anche lui. Lorenzo Bruno, Giovanni e poi tanti altri che aspettate un attimo che recupero. Abbiamo anche Enzo Appignani che ci guarda in chat, c'è Roberto Scorrano e il nostro Rosco DJ. Salutiamo tutti e aspettiamo tutti anche domani sera la prossima puntata. Facciamo notare che Enzo salutava Cristian Janzante perché credo sia stato un suo collega. Assolutamente, fece una scenografia per me nel 1987 bellissima per una trasmissione che conducevo su TVQ, si chiama Clips, che praticamente ci rubavamo con i satellite dei video meravigliosi di alcune televisioni americade, ci schiaffavamo davanti questa scritta che copriva il loro logo e quindi in pratica mandavamo in onda i video che si vedevano in America su TVQ rubandoli. Ecco questo. Infatti lui chiede… Aspetta Cristian, lui Enzo Appignani chiede, ci fa presente che De Berardinis è al circuito in blu, Pedicini a Freccia e tu in radio? Noi sappiamo che hai avuto delle esperienze tipo Radio 24 se non sbaglio. No, Radio 24 sono la voce della radio, quindi la mia voce va sempre in onda perché faccio le sigle e gli spot di tutte le trasmissioni, però non conduco niente in radio perché non ho tempo, perché la giornata è fatta di 24 ore. Io ne lavoro 12-13, poi considera che devo anche un po' dormire, quindi non ho la possibilità in questo momento di fare nulla in radio, però collaboro con Radio 105 per esempio leggendo delle schede di una trasmissione che si chiama CSI Milano, poi sono anche la voce di due radio romane, insomma comunque il mondo della radio non l'ho mai abbandonato. Il mio ultimo progetto radiofonico è andato in onda in un network che si chiamava RIN, che poi è diventata Play Radio e oggi si chiama Virgin Radio, però è una cosa del 2004 e adesso avrei un progetto, però insomma non so se riuscirò a realizzarlo, ma come fa Roberto di andare tutte le sere in diretta io non lo posso fare perché la mia vita è un pochino diversa. Non dire. Però, come dici, perdonami Fiorella? Non dire il progetto, fallo. No, 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 il progetto non lo dico, io spero di poterlo realizzare perché ripeto è abbastanza impegnativo, sarebbe un bel ritorno, però sono tutte cose registrate, ecco io non mi posso permettere la diretta, ma proprio perché non ho il tempo per poterla fare e quindi insomma, ripeto, pur continuando a collaborare con la radio, non faccio più direttamente la radio da tanti anni. È una cosa che mi dispiace, però ripeto… La radio è la cosa più bella del mondo, io le ho fatti tutti, carta stampata, radio, televisione, produzione, regia, fare la radio è la cosa più bella di tutte perché la radio proprio è l'anima, cioè sei tu al di fuori del tuo corpo e gli altri al di fuori del loro è una… e c'è la musica che va, è una… cioè non si può sapere insomma cos'era la… Intanto per Giovanni Di Bella che ci chiede se può cantare nella nostra trasmissione, io rispondo di inviare un suo contributo presso la nostra posta, non so, su Messenger, Whatsapp… Cassella postale numero 444… No, ma poi anche… sì, hai preso la palla al balzo, guardate che ci vuole veramente poco per registrare qualcosa e lo stiamo dicendo da giorni, però vi vediamo un po' pigri, la cosa è molto semplice, fate un video, ciao a tutti da Luciano, da Pianella, un abbraccio a tutti quelli di YoRestingChat, a tutti i miei amici che non posso vedere, un abbraccio virtuale, ciao, chiudete, mandate il messaggio al numero di telefono che noi mandiamo sempre in sovrimpressione e poi noi vi manderemo il video, quindi fatelo, mi raccomando, abbiamo ancora tanti giorni per stare insieme, questa cosa… Dove è questo numero di telefono, Pina? Eh, non lo so se la regia la manda spesso. Sì, sì, l'ho mandato già prima, adesso lo rimando in chiusura. Da qui non si vede, non lo vedi da qui. Sì, sì, no, da qui non si vede. Ah, io non lo vedo. Un'altra regia, un'altra regia che ritrasmette su Facebook. Ecco, una cosa invece che possiamo fare, visto che ormai l'ora è quella, quindi alla fine è una specie di riunione finale quasi, così ricordiamo di mettere, ricordatemelo anche di mettere il numero di telefono su tutti i nostri siti, cioè su tutti i nostri gruppi o le pagine di appartenenza, così almeno il numero gira, la gente se lo ricorda e può mandare anche un semplice SMS, Whatsapp, eccetera, eccetera, perché io sono sicuro che molte persone vogliono partecipare. Paolo, un saluto prima dei saluti. Ecco, stavo spulciando le varie persone che ci hanno salutato, non so se compaiono nella stessa chat perché io ho la mia condivisione di diretta in cui vedo, tra l'altro, che ci aveva mandato un saluto Maria Rita Piersanti, però a questo punto penso che ormai sia andata nanna, però intanto la salutiamo e magari anche lei la potremmo invitare qualche volta per raccontarci anche lei qualche storia. E niente, adesso ci sono i soliti i nostri grandi amici seguaci, Fabio Ditieri, sempre ogni presente, il mio amico Lucky Luciano, un ex barman del Niagara che vive in Svizzera e poi c'erano anche altri, ma adesso va bene. Prima di chiudere, ammonimento a tutti i conduttori, a tutti gli ospiti di controllare le proprie condivisioni perché su ogni condivisione ci possono essere dei saluti che noi poi ignoriamo. Allora, chi fa le condivisioni poi le deve anche controllare. A proposito di controllo, ecco l'ultimo che devo salutare assolutamente, Alessandro, vi ricordate il Bobby Tilt, dove si giocava? Come no? Ciao Alessandro! Titolare il Bobby Tilt, Alessandro Mazzocco, che adesso vive a Manila. Caspita! Manila! Grande sponsor di Radio Ketchup, Bobby Tilt. E anche di Radio Fantasy, ricordo di Radio Mela forse. Domani vediamo di farlo entrare in trasmissione, da Manila. Eh sì, magari, magari. Ragazzi, dopo quattro ore e ventisei minuti di trasmissione... No, tre ore e ventisei. Tre ore e chiedo bene e chiedo bene. Quattro, quattro. Tutto bene allora? Pino, Pino, ascolta, io prima che ci salutiamo definitivo vorrei darti dei motivi di effervescenza. Aspetta, eh? Chiore, non ne riniziamo per piacere. No, no, aspetta, aspetta, non rinizio, voglio fargli vedere dei dischi, aspetta. Oh, eh, ma allora qui cominciamo. Fantastico! Wow! Stupendo! Ma aspetta, quelli ce li fai vedere da lontano. Con una bella foto. La prossima volta che ci vediamo li commenteremo. Esatto, va bene. Perché nelle prossime volte anche dalla mia sala ci trasferiremo al mio studio, fuori, e quindi commenteremo i nostri LPs. LPs, vinili. Vinyl. Allora, buonanotte ragazzi, è stato veramente un piacere con tutti, veramente, ciascuno per motivi diversi, è un'assemblea meravigliosa, esemplari di umanità. Siamo nel villaggio globale finalmente. Grazie, grazie, baciovi a prestissimo, anche domani se vuoi Fiorella. Sì, sì, domani sono qua. Ciao Fiorella. Saluti anche da parte di Cristian, ciao Fiorella. Grazie a te Fiorella. Cristian, gli ultimi saluti anche per te? Io direi di delegare Cristian per fare i saluti finali con una frase, qualcosa a tutti noi, e concludere con io resto in chat. Non ero pronto per fare questa cosa, me lo dovevi dire. Approntati, insomma. Scrivevo una cosa bella. Allora, facciamo così, salutiamo intanto Mirko, salutiamo Remo. Esatto. Un saluto anche da parte di Linda, intanto, e poi ti prepari. Va bene. Linda, vai, andate avanti. Linda, prima le donne. Linda. Prima le donne. Bene, va bene, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per questa bellissima condivisione, questa sera è stata particolarmente affascinante, per me in particolare, penso per tutti quanti. E un bacione sempre a tutte le persone che comunque condividono questo momento insieme a noi, che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito. Mi sa che c'era anche qualcuno che festeggiava il compleanno il 29 oggi, però io non mi sono permessa di dire niente, ma la prossima lo farò. Niente, un bacione a tutti, grazie, grazie, grazie. Mirko. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie per aver scritto nella nostra chat, io resto in chat e ci sentiamo e ci vediamo domani sera. Remo. Io sono entrato in ritardo, ma vi ascoltavo anche tramite la diretta su Facebook. Io volevo salutare tutti, Cristian specialmente, ripeto, tu è un grande fan. Grazie. Per fare il compleanno diciamo che voglio ricordare che oggi fare il compleanno Terence Hill, 81 anni, quindi portati bene, visto che fa ancora... Hai pure l'albanacco del giorno dopo. No, 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 però siccome sono un fan di Buzz Spencer e Terence Hill, quindi film sono tutta a memoria, quindi per Buzz non c'è più, però Terence Hill oggi è il compleanno, 81 anni, domani e domani spero di entrare in orario, non all'ultimo momento, in modo che potrò partecipare alla trasmissione e poter incontrare anche Roberto Pedicini. Se Cristian... Casomai lo... Va bene, se non è domani dopo domani non è... Non c'è fretta, non c'è fretta. Le giornate avvenire. La quarantena c'è ancora. È lunga, è lunga. Va bene, grazie a tutti. Grazie a te Remo, Roberto. RAI, Radio Televisione Italiana, vi saluta e vi dà appuntamento domani sera alle 22, sempre su... Dai ragazzi, siamo infinite, siamo in chiusura. Quattro ore e mezza di diretta. Grazie Roby. Paolo. Ehi, vi salutavi, che qua, capite? Come stavamo parlando l'edizione, le cose, allora... Sono un... Vabbè dai, tanto ci sono sempre, ci sentiamo ormai da tante notti, vi ringrazio per essere stati anche questa notte con noi e ci vediamo domani, io resto in chat. Cristian, eccoci qua allora. Io posso dire che in questo tempo che si è fermato, perché per me è un tempo tutto uguale, cioè le giornate sono tutte uguali, io non so più se oggi è sabato, se è domenica, se è mercoledì, non so se sono le quattro di mattina o le cinque di pomeriggio, beh, speriamo di avere ancora tempo per giocare e per dialogare in questo tempo che noi ci siamo dati. credo di sì, perché come diceva il nostro amico alla quarantena, non credo che sarà breve, e quindi di certo ci ritroveremo e spero con il vostro piacere. Bene. Io credo che resterò in chat. Credo che resterò in chat. Allora adesso però ci devi fare uno spot, perché io dopo li registro, anche se con la... Semplicemente dicendo io resto in chat, tutti zitti, perché adesso parla Cristian. Ok. Togli la mano da qui, però... Io resto in chat. Benissimo, benissimo. Bene, allora ringraziamo tutti quanti, io volevo soltanto salutare prima di dare la voce a Giovanni che chiuderà definitivamente, me la sentivo di dire da tanto tempo, però poi mi sono preparato. E allora io con un immaginario ciuffo e con gli occhiali dico, grazie a voi cari amici della notte, io vi aspetto come di consueto, sempre di notte, sempre sotto voce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno, vista l'ora, è appena finito, un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte, in conclusione di ogni puntata. Ciao Natan! Ciao papà! Come va? Alla grandissima! Cosa gli diciamo ai nostri concittadini? Fate come me, io resto in chat. Ridillo più forte! Fate come me, io resto in chat. Ciao! Ciao! Ciao amici di Facebook, ci vediamo più tardi, io resto in chat. Questa sera, partire dalle ore 22, sulla pagina DJK Association, e sul gruppo Quelli che Pescaresi, ci metteremo in diretta streaming, in video chat room, io resto in chat. Ti aspettiamo, non mancate! Io resto in chat. 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 Il regista chiude definitivamente, sta per cliccare il tasto stop e vi lascia con queste parole. Guardate com'è bello stare con i fratelli. Io resto in chat.